Buondi! Eccoci qua con Lunar Magic. Metto la musica di sottofondo, metto musica creativa di WarioWare Do It Yourself. E abbasso un po' il volume. Ok, fatemi sapere se il volume vi sta bene. Allora, questo cos'è? Questo è l'editor di Super Mario World, come vedete scritto qua giù, è quello che usano per creare le ROMAC. Una delle nostre rubriche regolari è quella dello scrigno dei fangame, che è una rubrica in cui proviamo varie ROMAC, vari fangame... Ecco, tutte le ROMAC di Super Mario World passano da Lunar Magic, sono basate su questo tool. Quindi, quello che farò oggi è partire da zero, proprio scaricherò il tool da zero, così potete anche imparare, se volete, come si fa. E creiamo dei livelli, creiamo una piccola hack. Tutte le hack di Mario World sono basate, concordo. Un po' di contesto, io ci sono cresciuto con Lunar Magic, l'ho usato da quando ero praticamente bambino. Non lo tocco da un bel po', quindi sono un bel po' arrugginito, quindi magari non ricorderò tutto quanto. Ma facciamo così. Allora, per prima cosa vi serve Super Mario World, la versione americana di Super Mario World. Questo è il mio schermo, destro. Ho due schermi, per fortuna. Questo è il mio schermo, e per l'occasione l'ho svuotato e l'ho messo a tema. Mi serve una rom americana di Super Mario World. Dove si trova, non posso dirvelo, ma vi serve. Ovviamente dovete possedere il gioco originale, ovviamente io lo possiedo. Quindi possedete il gioco e preparatelo e mettetelo, piazzatelo qui, sul PC. Poi, detto questo, andiamo su Super Mario World Central. Allora, Mario World Central è la risorsa principale per l'hacking di Mario World. Comunque sì, devi possederle ed amparle in autonomia e serve la versione americana. Lo unico anche in chat su Super Mario World Central.net. Quello che dovete fare è andare su Tools. Potete fare Filter per filtrare, però comunque qui, tra i primi. Lunar Magic 3.31. Questo è il tool essenziale. Questo è quello che useremo oggi. Andate su Download. Ed eccolo qui. Allora, faremo così. Faremo una cartella Lunar Magic e ce lo piazziamo qui. Eccolo qui. Quindi piazziamo Lunar Magic in una cartella e per fare prima comunque mettiamo il collegamento qua nel desktop. Così. Quindi abbiamo Lunar Magic. Eccolo qui. Questo è l'editor di Mario World. Ed è vuoto per ora perché non ho ancora caricato la ROM. Vi faccio vedere come si fa velocemente. Quindi cliccate qua la primissima icona in alto a sinistra. Aperite una ROM. Sul desktop per ora solo questo quindi Super Mario World. Eccolo qui. Benvenuti in Lunar Magic. Magia lunare. Allora questo è il primo livello del gioco. Vedete qua in alto a sinistra c'è... apri il livello... un numero di un livello. È poco zoomato. Vuoi essere un po' scomodo averlo così zoomato però l'importante è che si veda bene per voi. Ora va meglio? Ok. Così in effetti è più simile allo zoom di Mario Maker. Molti di voi probabilmente sono abituati a Mario Maker quindi cercherò un pochino di spiegare anche per chi è abituato a Mario Maker. Dici... non è... è poco zoomato? Ah l'interfaccia. Sì purtroppo non posso farci molto perché è proprio la cattura del mio monitor. Comunque in alto a sinistra troverete un'icona, la terza icona, che dice open a level number. Il default è il livello 105 perché il livello 1, come vedete qui, il livello 1 si chiama 105. I codici dei livelli sono un po' disordinati. Tipo il primo è 105, andando avanti con il 106, il secondo è 106. Poi c'è una casa fantasma, poi c'è questo che non è un livello per e proprio. Quindi sono un po' disordinati, dovrete un po' cercarli in giro. Non si reggono i tooltip. Ma non dovrebbe essercene il bisogno. Allora... ci sono tante cose che si possono fare, possiamo già muovere le cose. Possiamo già, per esempio, spostare questo cupo da qui e metterlo in testa a Mario. Così appena cominciamo Mario muore. In alta a sinistra c'è l'icona del salvataggio, quindi possiamo salvare, aprire, con un emulatore a scelta. Ho il volume nel gioco? No, meglio così, così non ho il doppio volume. Ottimo level design. Quindi questo è l'intro. Andiamo nel primo livello, che è qui. È magia, Mario muore. Quindi abbiamo creato la nostra prima hack. Grazie per aver guardato, questo è tutto. Allora, allora. Se state muovendo i primi passi c'è una cosa che dovete imparare, che è un pochino meno intuitiva rispetto a Mario Maker. Qua in alta a sinistra, mi piacerebbe poter zoomare in qualche modo più comodo, facciamo così. In alta a sinistra vedrete, ecco qui, che ci sono queste icone qua. Vedete che in questo momento ho selezionato il guscio? Ecco, queste icone determinano con quale layer del gioco interagite. Utene, comunque sì, la mia cartella personale si chiama utene. E così da 15 anni, mi sono affezionato a utene. Mi passo una musica, va bene. Per far partire il livello bisogna possedere un emulatore, sì, e tra poco lo spiegherò. Utene. Non prendetemi in giro per utene, ok? Allora, il gioco ha diversi layer. Questo è il layer degli elementi, diciamo, del livello come il terreno, le nuvole, i blocchi. Mentre questo è il layer degli sprite. Gli sprite sono le cose generalmente che si muovono, come nemici, funghi, power-up vari. Questo in mezzo è il layer 2, che però non è usato quasi... non direi quasi mai, ma è usato di meno. Quindi è un caso un po' particolare che magari spiegheremo in altri casi. Per ora bisogna concentrarsi su questo qua, che è il terreno, e questo qua, che sono gli elementi in movimento, chiamati sprite. Prendermi in giro è quello che fate meglio, avete ragione. Quindi, vi faccio vedere. Mentre ho selezionato qua il layer degli sprite, non posso muovere il terreno. Vedete che qua cerco di trascinare, non fa niente. Mentre posso trascinare gli sprite, come il Koopa. Se invece seleziono il layer 1, non posso più selezionare il Koopa, ma posso selezionare gli elementi. Quindi non è come Mario Maker dove è tutto insieme, ma sono layer separati. Allora, per cominciare, prima di cominciare vi spiego un attimino gli emulatori. Mi ero preparato anche una cosa riguardo. Quale emulatore usare? Ci sono vari emulatori che potete usare, ce ne sono anche molti altri oltre a questi, ma mi concentro su questi perché sono quelli che conosco un po' meglio e quelli magari un pochino più diffusi. Mettiamola così. Se avete Android o iOS, se siete su mobile, l'unica scelta è SNES 9X, quindi se siete su mobile solo SNES 9X può funzionare. Ma tenete a mente che su mobile non si possono creare hack. Le hack si possono fare solo su Windows perché Lunar Magic va solo su Windows. Che lo sappia. Lunar Magic su mobile? No, decisamente no. Mentre, Business è di gran lunga l'emulatore migliore. Business sviluppato da Nier è l'emulatore migliore. Quello con l'accuratezza massima, livello cycle, com'è che si dice in italiano, non lo so, ma comunque è quello con l'accuratezza migliore, anche requisiti più alti. Potrebbe servirvi un PC un pochino più potente per farlo funzionare. Diciamo, se non avete tipo un PC del 1998 dovrebbe andare, però se avete problemi con Business ricorrete a SNES 9X. Se avete davvero problemi con entrambi e non vi importa niente, potete ricorrere a ZSNES. Questo è un emulatore storico, non riceve aggiornamenti da 18 anni, dal 2004, ha requisiti molto bassi, gira anche su un tostapane. Però l'accuratezza è minima, ha molti bug e ha delle falle di sicurezza, quindi evitate ZSNES se potete. Usate SNES 9X, che tra l'altro per la sua velocità sto usando... qui vedrete... Lo sto usando qui in questo momento SNES 9X perché è molto veloce a caricare e quindi per l'uso generale può essere comodo. Ma questa è una cosa importante, è sempre importante usare Business per testare. Allora, quando io faccio hack uso SNES 9X per velocizzare il processo, perché è un pochino più veloce, ma quando gioco alle hack uso Business per l'accuratezza massima. Quando vedete le hack nello scrigno dei fangame è sempre Business. Inoltre, per testare la vostra hack dovete provarla su Business. Generalmente, se l'hack funziona su Business, funziona anche su hardware originale. Mentre, se ci sono dei bug, è possibile che SNES 9X la faccia girare ugualmente, così come ZSNES. Gira nonostante i bug, anche se in realtà c'è un problema. Semplicemente significa che il problema c'è, ma siccome l'emulatore è poco accurato, gira lo stesso. Quindi dovete usare Business per assicurarvi che davvero sia tutto a posto, perché è quello più accurato. Quale usare? Business. Se poi volete più velocità, vi serve su mobile SNES 9X. Esatto, se funziona su Business potenzialmente funziona anche su console. E ovvero c'è anche MSNS, come dice Durenner. Ecco qui. Ne ho sentito parlare bene. Non lo conosco bene, però sembra anche quella una buona opzione. Tony diceva... Il tuo PC non è così potente, dici. Io ti direi di provare Business. Se va bene, usa Business. Se no, SNES 9X va bene nel 99% dei casi. Detto tutto questo, questa parentesi, torniamo su Lunar Magic. Domanda, da dove partiamo? C'è una cosa molto importante da fare prima di cominciare. Ora, mettiamo caso che questo è il livello di Mario Maker e io voglio mettere un miliardo di nemici. Creiamo il livello, esatto. Mettiamo un miliardo di nemici, facciamo spam di nemici come in Lunar Magic. Come in Mario Maker. Mettiamo tipo così, no? Ora, salvo. Vedrete che, per limitazioni tecniche, non appariranno tutti. Mettiamo i nemici personalizzati, ci arriveremo. Allora, vedete che appaiono solo 7 nemici qua. Non ne appaiono molti. Perché ci sono chiare limitazioni tecniche dovute a, diciamo, come è fatto Mario World, oltre che all'hardware. Selezioni i nemici insieme e duplicali. Si può fare tipo selezionare così. Per incollare è sufficiente selezionare una cosa e premere il tasto destro. Quindi posso fare velocemente così. Posso fare così, tasto destro e bam. Mi piace? Sono abbastanza? Che ne dite? Ora sembra davvero un livello di Mario Maker. Andrew dice, non ti sto piacendo per niente. Non c'è abbastanza spam? Ora esplode il PC. Però vedete che ne appaiono sempre pochi. Sì. Triste, no? Ecco. Una cosa importante da fare al giorno d'oggi in un hack di Mario World è mettere SA1, che è un chip che velocizza il processore. Non so come spiegarlo bene in termini tecnici, ma vi faccio vedere così siamo più chiari. Andiamo qui. Allora, andate su Super Mario World Patches e cercate SA1. Questo è molto importante, SA1 Pack. Lo scaricate ed eccolo qui. Ora creerò una cartella che si chiama Patch. Andreas dice, pensavo che sarebbe stato più divertente, ti stai annoiando. Beh, diciamo che per ora è tutto tutorial, non ho ancora iniziato a cazzeggiare quel livello. Quindi sto solo spiegando come si fa, ma dai, ora inizieremo veramente a creare. Questa è una cosa importante da fare prima di creare. L'SA1, il pacco SA1, lo metto tutto in una cartella, che la chiamo Patch per ora. Poi vado di nuovo qua, vado su Tools e prendo ASAR. Ok, non c'è bisogno di cercarlo perché è qua sopra. È un'idea per un livello, volentieri. Tiro fuori di nuovo la cartella Patch e metto tutto nella stessa cartella. Cos'è ASAR? ASAR è un tool che permette di applicare le patch. Ci sono un mucchio di patch nel gioco, vi faccio vedere per esempio... Download, quelle più scaricate. Qua c'è una patch che permette di usare spretti dinamici, non so come spiegarlo. Comunque, vediamo. Qua c'è una patch che aggiunge salta a parete. Per esempio, poi c'è una patch che mette l'autosave. C'è una patch che disattiva le stelle bonus. C'è una patch che aggiunge lo schianto a terra. Ci sono un mucchio di patch, no? Per applicarle serve ASAR, questo tool importantissimo, essenziale. Quindi ho scaricato ASAR in questa cartella, oltre alla patch SA1. Ora, piglio la mia ROM. Forse era... sapete cosa? Era meglio ottenere la ROM copiata. Copiare la ROM originale, diciamo. Ma va bene, facciamo così. Chiamiamola anzi... HACK. Chiamiamola HACK. La metto qui, HACK. Apre SAR. Metti il nome della patch. Si chiama S1.ASM. Si trova qui, molto piccolo, perché vedete il mio monitor, quindi non si vede molto bene, ma è qui. E il nome della ROM è HACK.SMC. E abbiamo applicato SA1. Ora la rincollo qui, la sostituisco qua. Ok. E vi faccio vedere la differenza. Ora la carico. Guardate subito la differenza. E la ATC. Bello vedere un canale italiano che tratta di ROM HACK di Mario World. Mi fa molto piacere sentirtelo dire. Solitamente giochiamo alle HACK. Sapete che ho fatto? Ho fatto un errore. Mi sono scordato un passaggio importante. Mi sono scordato un passaggio molto importante. Quindi, un attimino. Solitamente dicevo, comunque, giochiamo alle HACK. Però ho anche un po' di esperienza nel farle, quindi stavolta... stavolta le facciamo. Sono un po', l'hai ragione. Allora. A cosa serve SA1? Lo vedrai in pratica tra poco. SA1 serve a velocizzare molto il processore. A ottimizzare, diciamo, l'uso del processore. non so bene come spiegarlo. E permette di avere molti più sprite. Quindi puoi fare spam come Mario Maker. Se vuoi. Se per qualche motivo lo vuoi. Allora, rimettiamo la HACK, la ROM pulita. Facciamo così. Partiamo da zero. Con la ROM pulita. Ne metto una pulita e poi metto HACK. Ok, quindi. Questa qui di prima togliamola. Riapro velocemente, così. Apriamo HACK. Mi sono scordato una cosa molto importante. Bisogna andare su opzioni. Se non sbaglio era su opzioni. opzioni generali? No, dov'era? Sono molto preparato. Sono arrugginito perché non lo faccio da un pezzo. No, era su... Ok, era su file. Era su file. Non posso zoomare la barra, purtroppo. Devo fare una cosa per SA1. Devo andare su file. Expand ROM. espandere il DOM. E fare expand ROM to 2 MB. Questa è la prima cosa da fare. Andare su file. Espandi la ROM a 2 MB. E poi salvi. Ora posso rifare lo spam di nemici. Ok. Ora va tutto bene. Andrà tutto bene. Mi dice che ho troppi sprite. Va benissimo così, va benissimo così. Ne tolgo un po', dai. Facciamo così. Quindi, dicevo, se apriamo ora il gioco, vedrete che... Sono sempre quei 7. Non ne appaiono più di 7. Quindi SA1 serve a farne apparire più di 7. 8. Sono tutti i tulbysosum. Sì, sono tutti i tulbysosum. Ok. Ora, rifaccio quello che ho fatto prima. Prendo l'hack. La metto nella cartella patch. Apro SAR. Di nuovo, SA1.asm. E poi, hack.smc. Ecco qui. Ora... Dovrebbe andare. La sto prendendo con business. Non va ancora. Probabilmente... Probabilmente. Mi conveniva. Mi conveniva. Applicare SA1 prima ancora di... Prima ancora di mettere i nemici. Quindi facciamo così. Hack. Lo rifaccio. Ma tutto bene. Sono arrugginito. Sono molto arrugginito. Quindi, qua siamo di nuovo la hack pulita, va bene? Per prima cosa, espandi a 2 megabyte. L'ho provato, tra l'altro. Ho provato tutto ieri, quindi... La mia memoria non arriva fino a ieri. Abbiamo espanso a 2 megabyte. L'ho fatto, vero? Ha salvato? Ok. Ha salvato. Ora, applico la patch. Per prima cosa, applichiamo la patch. S1.asm Hack.smc Ora, rimettiamo la hack qui. E apriamola di nuovo. Ora... I ritmi sono per deboli. In realtà l'ho letto ieri. Mi ero preparato ieri. Ho preparato tutto. Iperchiede. Asar, hai capito? Si può avere sempre... Sì, su Super Mario World Central. Sì, Asar è... Su Super Mario World Central è in Tools. È tutto qui. Vai su Tools qua a destra e lo trovi qui. È la seconda opzione in ordine alfabetico. Allora, rifacciamo quello di prima. Mettiamo un miliardo di cupa. Proviamo ad aprirla. Ora parte. Eh, si è funzionato. Ecco qua, tanti cupa. Ora possiamo spammare! Come nei migliori livelli di... Di Mario Maker. Questo non sarebbe possibile normalmente in Mario World, ma grazie a questa patch diventa possibile. Ok, sono così tanti che iniziano a glicciare la grafica, però si può, si può. Mettiamo questa patch, vediamo cos'è. La status bar stile nel New Super Mario Bros. Wii. Potrei farlo? Però facciamo così. Non voglio annoiarvi, quindi partiamo un attimino con il level design. Allora, il tema della hack, mi piaceva l'idea... esatto, faccio un livello. Ehm... Mi piaceva l'idea di fare una hack in cui devi uccidere Toad. Per ora facciamo... Tolgo tutti sti cube, eh. C'era una combinazione di tasti che permetteva di cancellare tutto, se non sbaglio era... Ok. CTRL. 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 SHIFT e CANCHE. Aveva dato Andreas l'idea. Ok, avevamo tutti l'idea di uccidere Toad. Una patch per evitare i glitch grafici. Si chiama non mettere 800 sprite. Diciamo che S1 espande il limite. Ma comunque siamo su Super Nintendo, quindi comunque un limite c'è. Quindi bisogna sperimentare e assicurarsi che non sia un po' troppo. C'è un hack che ha ricreato abbastanza fedelmente la fisica di Serest. L'ho provata, vero? È molto bella. Allora, come si aggiungono le cose? Vi faccio lo zoom. Allora, vedete le icone qua in alto, no? Qua ci sono le icone che abbiamo detto prima per cambiare i layer. E poi c'è l'icona qua accanto. Faccio lo zoom migliore. Ecco qua. Le icone qua accanto. Queste due. L'icona del blocco è l'icona del Baby Yoshi. L'icona del blocco apre la selezione degli oggetti del terreno, gli elementi del livello. Mentre Baby Yoshi apre la selezione dei nemici. O degli sprite in generale. Cambiamo il nome alla hack in Superstorm World. Dobbiamo scegliere più avanti il nome. Per ora andiamo così. Non mi ricordo, no, non credo di averla finita. L'ho provata ma non mi pare di averla finita. Quindi, cliccherò sull'icona del blocco. Ed ecco qua. Qua ci sono tutti gli elementi del gioco. Per esempio abbiamo monete, abbiamo i blocchi nota, abbiamo i blocchi girevoli, abbiamo i blocchi punto interrogativo, i blocchi da lanciare, le piante piragna, qua come si chiamano, i blocchi di cemento. Per prenderli e usarli si fa così. Li selezionate e poi premete il tasto destro sul livello. Sgranocchi, grazie. Il tasto destro e il tasto incolla. Quindi io seleziono qua e poi tasto destro qua, incollo. Li levo. Ci sono tubi, ci sono vari tipi di terreno. Prendiamo questo che è il terreno normale e lo piazziamo sotto Mario. Poi potete mettere tipo il cursore sull'angolo e allungare e diminuire. Quindi per esempio mettiamo un po' di terreno, un po' di meno, facciamo tipo così. E poi mettiamo tipo... Ehm... Vorrei mettere... Ok, mettiamo questo qua. Ci sono vari tipi di terreno. Mettiamo questo che è il bordo solido. Ecco qui. Così facciamo un burrone. Non è semplicissimo come in Mario Maker, perché vedete, in Mario Maker c'è un solo blocco per il terreno. E prende automaticamente la forma che volete. Mentre qui dovete mettere proprio manualmente tutti i bordi. Quindi... Basta con i tutorial e cominciamo diciamo veramente con... Fare robe. Vediamo un po' cosa possiamo mettere. Una cosa che volevo fare era modificare la grafica dei Koopa per renderli Toad. Volevo fare che i Koopa sono Toad. E tipo, gli stacchi la testa quando gli cadi di sopra. Sì, puoi mettere anche cose personalizzate, con... Sprite personalizzati con Pixie, ma ci arriveremo più avanti. Come facciamo a rendere i Koopa so awesome? Comunque sì, Pixie è un tool esterno, però è roba più avanzata. Se mi metto a spiegare tuttora diventa noiosissimo, quindi... Creiamo un po' di livello. Allora, facciamo finta che questi saranno Toad. Quindi mettiamone un paio, sappiamo che più avanti saranno Toad. Per ora sono Koopa. Poi possiamo modificare la grafica, la musica, tutto quanto. Mettiamo come musica questa, vediamo cosa è linkato. Running Hell! Di Cave Story, bellissima. Potremmo metterla. Ricordamelo Luigi perché voglio metterla. Ah, ok, dovrei mettere Koopa sgranati. No, facciamo... Facciamo Toad, dai. Mi piace l'idea di uccidere Toad. Mettiamo un po' di blocchi, per esempio, no? Sapete, i giochi di Mario solitamente hanno i blocchi. Metto cose a caso, per ora non ci sarà un bon level design, sarà un po' roba a caso. Mettiamo tipo un po' di blocchi, roba a caso. Allora, qua c'è un menu. Tutti gli oggetti. Oggetti estesi. Ci sono tipo vari tipi di blocchi. Qua per esempio c'è il blocco che contiene il fiore di fuoco, il blocco che contiene la piuma, il blocco che contiene la stella. Mettiamo il blocco del fiore di fuoco. Mettendo il mouse sul blocco si vede che contiene il fiore di fuoco. Ora, se siete Mario piccoli, ottenete il fungo, se siete Mario grandi, ottenete il fiore. Davvero, nei blocchi? Esatto. Mi mettiamo tipo dei blocchi qui. Questa hack fa già schifo, ma... Il level design diciamo che non è già dei più espirali, ma... Partiamo così, partiamo semplice. Ci saranno anche un po' di decorazioni che possiamo mettere. Per esempio il... Ecco qua, un cespuglio. Due cespugli. C'è un'opzione per mostrare il contenuto. Vediamo. Switch blocks? No. Block content! Ok, ottimo, grazie. Non lo sapevo. Quindi così possiamo vedere il contenuto dei blocchi. Quindi qua c'è la moneta, qua c'è il fiore. In Super Mario Bros. X puoi mettere qualsiasi NPC nel blocco. Qua non si può. Ma si può mettendo dei blocchi personalizzati, di base no. Allora... Potremmo fare... Potremmo fare... Potremmo fare... Facciamo tipo una sezione di platforming sui... Sui blocchi nota. È un'idea terribile? Sì, facciamolo. Facciamo così. Mettiamola su un terreno. Posso copiare qua e fare un altro terreno. Tipo così. Mettiamo dei blocchi nota quassù. Se sali trovi qualcosa sopra. Mettiamoci un altro cuba qua. Se sali qua trovi Rob, eh. E cosa ci mettiamo di bello? Possiamo mettere anche un po' di monete così sparse in giro. Intanto parte la musica di... Di... Mary Paint. Mettiamoci una moneta Yoshi. Per cur momento. Tony consiglia come musica Marble Zone di Sonic. Luigi consiglia Punching System. Un sistema per dare punci... Pugni. Ok, non mi dispiace, non mi dispiace. Non mi dispiace perché mi piace l'idea di dare pugnetog. Allora, facciamo così intanto. Facciamo un po' di livello e poi aggiungiamo Rob. Facciamo un po' di monete tipo... Così. Tipo così. Là. Ehm... Ok, facciamo tipo così. Per ora il level design è estremamente semplice, ma non mi importa. Non vuole neanche essere una hack seria, diciamo. Quindi andiamo così. Ehm... Una cosa da controllare che voglio fare è mettere view... E vedere... Sub Screen Boundaries che si può fare anche con F2. Voglio assicurarmi che la moneta Yoshi non sia a metà... Tra... Queste Boundaries. Perché se è a metà si glitcha. Quindi... Non è a metà bene, quindi... Posso togliere. Metti fungo con app in un blocco nota. Si può di base metterlo. Ehm... No, di base credo che non si possa. Di base non si può. Si può creare poi probabilmente come... Roba personalizzata, ma per ora facciamo così. Ci sono molte più a faccia sulle monete Yoshi. Si, c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi... Abbiamo fatto questo, no? Per ora vediamoli in azione. Quindi entriamo nel livello. Ed eccolo qua. Il nostro livello appena creato. Là c'è il fungo. Qua ci sono i Koopa che in futuro saranno Toad. Sali quassù. Ok. Ehm... Lo schermo non scrolla in alto. Una cosa importante da fare per fare scrollare lo schermo... Era... Ok, qua. Tra l'icone qua verso la fine... Tra queste icone bisogna cliccare qua, su quest'icona verde dell'erba. Sono molte icone da imparare, me ne rendo conto, ma se ci mettete il mouse vi dice quello che fanno. Quindi, change other properties. L'icona verde. Quella è per lo sfondo? Hai ragione! È la testa di Mario. Ok, è la testa di Mario, hai ragione. Quindi questo screenshot era quest'altra icona, la testa di Mario. Sono un po' arrugginito. Quindi... Bisogna cambiare layer 1 vertical scrolling. In questo caso mettiamo vertical scroll at will, quindi scroll verticale quanto ci pare. Facciamo ok e salviamo. Farò un salvataggio qua fuori dal livello così posso... Ah, perché non mi fa salvare? Come si salva? Non vuole salvare. Probabilmente non mi ricordo l'outkeeper salvare, ma va bene così. Allora, adesso ci permetterà di scrollare. Ecco qui. Visto che viene... Inizia a prendere forma? Ora possiamo salire e prendere la nostra splendida moneta stella. Moneta Yoshi, come volete chiamarla. E questo è tutto! E il livello è finito! Ora... Che dire? Cosa potremmo aggiungere? Scegliete voi. Cosa vi piacerebbe vedere in questo livello? Di base Mario World ci sono 5 monete Yoshi per ogni livello. Viene a dire moneta stella. Il checkpoint di già. Potremmo metterne 5, sennò possiamo diminuire il livello a... A 3. Potremmo creare un pollo se volete. Possiamo creare grafica personalizzata e mettere un pollo. Uno Yoshi. Mettiamo uno Yoshi, va bene. Allora, vado tipo qui. Yoshi, Yoshi, Yoshi. Ok, qua c'è il blocco con lo Yoshi. Allora, il blocco con lo Yoshi dice una cosa importante. Quando avete due Yoshi contemporaneamente diventa un 1UP. Quindi, di base un uovo di Yoshi. Se ne avete due diventa un 1UP. Pizza con l'ananas, va bene. Possiamo metterla. Possiamo fare un po' di shitpost. Per ora faccio robe normali, però... Mortal Toadbat, oppure Toadkiller. Mi piace l'idea di Toadkiller. Ora ci mettiamo a cambiare la grafica, fidatevi. Buon tipo che Dario, come va. Tra l'altro mi avete già mandato un po' di cose utili. Quindi mettiamo un pochino di... Di blocchi così, inutili, diciamo. Quello in mezzo ha lo Yoshi. Possiamo mettere qualche decorazione di qualche tipo. Diamo un'occhiata. Si può mettere tipo questo enorme... Questo enorme coso qui. Questo enorme cespuglio, ma è un po' troppo grande e si sovrappone. Non va bene. Ok, questo è un po' più piccolo. Possiamo mettere tipo... Questo un po' più in alto e questo così. Così. C'è anche la freccia che si può mettere. Mettiamo tipo una freccia, perché no? Decoriamo così a caso. Luigi intanto sta consigliando musica di... La Super Mario World Center. La Tracer, bello. Mettiamo anche un po' di slope, perché questo non è come Mario Maker 1. Qua si possono mettere le slope, quindi mettiamo... Tipo il bordo così. Mettiamo... Così. Mettiamo... Così, dai. Un pochino di slope. Ok, per mascherare qua bisogna prendere il tile vuoto. Che è qua su. Eccolo qui. Spritey Toad però ha trovato Toad Rospi. Possiamo farlo anche noi da soli il Toad. Quindi, qua abbiamo creato uno Yoshi. Mettiamo anche una bacca per farla mangiare allo Yoshi. Mettiamo una bacca. Questa roba non c'è in Mario Maker, non c'è la bacca. Prendiamo tipo la bacca rossa e mettiamola in questo cespuglio. Ecco qui. Poi potremmo mettere dei blocchi di cemento, per esempio, no? E nascondiamo dentro i blocchi di cemento qualcosa che può prendere solo Yoshi. Mettiamo tipo un Toad rinchiuso che può mangiare solo Yoshi, così, per gusto, per mangiare più Toad. Chissà, poi potremmo fare anche tipo un contatore di Toad morti. Quindi, devi uccidere più Toad possibili. Mettiamoci un po' di monete sopra. E poi un'altra piattaforma qua avanti. Ok. Allora, mi state consigliando un bel po' di cose di grafica e musica. Quindi, diamo un'occhiettina veloce qua e poi facciamo grafica. Che, in fondo, è la cosa che differenzia maggiormente questo da Mario Maker. Quindi fin qua abbiamo tutto quello che vogliamo. A un certo punto potremmo mettere 10.000 Toad nello schermo e potrai distruggerli tutti con la stella. I collezionabili sono le morti dei Toad, sì. Qua c'è Yoshi, eccolo qui. Ah, vi faccio vedere anche come si cambia il messaggio. Tra un attimino... Quindi abbiamo Yoshi e Yoshi può mangiare il cuba e sputarlo. Vi ricordate il livello dell'albero? Qui bisognava sputare fuoco con Yoshi e Mario Maker per uccidere Cuba a bei tempi. Quindi, uccidiamo velocemente Yoshi e poi... Chiudiamo. Allora, abbiamo una base. Abbiamo una base. Ora... Cosa volete fare? Grafica o musica? Da dove partiamo? Oppure partiamo dai messaggi, dal testo. Musica? Sono abbastanza arrugginito quindi dovrò imparare un po'. Musica, va bene. Musica, musica, grafica. Musica, va bene. Ah, vi faccio vedere anche una cosa, velocemente. L'editor della palette. Qui in alto ci sono sempre un miliardo di icone. Quello che mi interessa per cambiare la palette è l'icona della stella arcobaleno. Questa qui. L'icona della stella arcobaleno cambia la palette. I messaggi si possono togliere del tutto sì. Volendo sì. Quindi, l'editor della palette ha dei preset. Per esempio, qua si può cambiare la palette dell'FG. FG sta per foreground. Quindi, la roba che vedete in primo piano, come il terreno. Per esempio, mettiamo uno. E vedete che cambia velocemente? Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Non c'è l'otto. Poi c'è lo sfondo, che è back. Vedete tutti questi dei preset? Mettiamo tipo... Mettiamo qualcosa di deprimente, perché voglio tipo un ambiente gritty. Un ambiente deprimente in cui uccidi tutti i Toad. La mia musica, vediamo cosa è linkata. La Song of Storm di Ocarina of Time, mi pare giusto. Ah, cambiamo magari lo sfondo, lo facciamo leggermente meno scuro. Mettiamo tipo... Potete proprio cambiare poi i singoli colori. Quindi, cliccate qua col tasto sinistro e cambiate... Lo sfondo, per esempio, così. Guardate come inizia ad essere personalizzato. Ah, non qui, ma qui. Guardate che bello. Si può fare in Mario Maker questo? Non si può fare! Non vedo l'ora di riempire questo posto di sangue di Toad. Questa è la cosa che mi fa andare avanti. La cosa che mi dà forza. Cielo rosso. Ok, ho un'idea. Facciamo il cielo rosso. Tipo così. Ah, magari un pochino meno acceso. Tipo così. Cambiamo magari anche... Cambiamo magari anche le colline dietro. Cambiamo i singoli colori. Dai, facciamo un po' così. Tipo così. Quando fate due colori... Piccolo trucco. Quando fate due colori... Non è un trucco perché c'è anche scritto in basso a destra, Ma quando avete due colori così... Vedete che ho i miei colori qua. Rosso più scuro e rosso più chiaro. Rose. Tenete premuto Alt. E premete il primo colore con il tasto sinistro. Anzi, col tasto destro. E il secondo colore col tasto destro. E crea la sfumatura in mezzo. Così ho tenuto la sfumatura. E la applico anche sotto. Copio col tasto sinistro e CTRL. E incollo col tasto destro e CTRL. Tutte queste cose che sto dicendo sono scritte qua. In basso a destra. Mi sei faticato a seguire comunque tutto scritto qui. Poi facciamo tipo più chiaro. Molto più chiaro. Tipo così. Come si cambiava qui? Sempre così. Ecco, che ne dite? Che ne dite di questo colore rosso sangue? Che non è proprio rosso sangue. Red da piccolo ha fatto un hack Geyser dove il livello era tutto rosso tipo sangue. Tipico. Quindi guardate ora questa roba tutta rosa e rossa. Sarà piena poi di sangue di Toad. Mi sento un po' un dodicenne che crea la sua prima hack e dice tipo Sì, uccidiamo tutti i Toad! Ogni tanto mi piace provare a fare questo glitch e poi non ci riesco mai. Anche perché è troppo in alto. Va bene. Per ora teniamo così. È surreale. Dobbiamo mettere le macchie di sangue sul pavimento, hai ragione. Allora, facciamo così. Cominciamo con la musica. E so qual è la musica perfetta da mettere qui. Quindi. Per prima cosa serve un tool per mettere la musica. Il tool è il primo che c'è qua. Add music k 1.0.8 Correggetemi se mi sbaglio. Ditemi se c'è una versione più recente, ma credo che questa sia la più recente. Doom? Assolutamente sì! Mi avete consigliato Running Hell di CapStory, esatto, che è quello che volevo mettere. Potremmo fare un livello con Running Hell e un livello con Doom. Comunque, il tool per la musica si chiama The Music. Quindi vado qui e lo scarico. E creo una cartella che si chiama... Musica. Copio tutta sta roba e la metto qua dentro. Ok, ora abbiamo la nostra cartella musica. Ora, riuscirò a ricordarmi come si fa? La risposta è probabilmente no, ma ce lo ricorderemo insieme. Allora, qua c'è la musica originale. Globale, locale. Sample. Non mi interessa, sound effect non mi interessa. Vediamo il ritmo. Vediamo il ritmo. Un attimino. Vediamo il ritmo. Sì, va bene, ho aperto il ritmo nell'editor. A volte, bisogna leggere i ritmi. Ecco qui. Ah, uso di base. Come si inserisce la musica? Può sembrare un po' complicato. E un po' lo è. Devo ricordarmelo anch'io perché non lo uso da una vive. Ah, amkgui? Oh, c'è l'interfaccia grafica! Questa non c'era una volta! Non c'era una volta! Add new song. Ok! E là, Andrew. Come procede? Abbiamo fatto un po' di robe qui. Abbiamo reso il cielo rosso e... Abbiamo messo un po' di elementi e ora mettiamo la musica. Allora... Come si sceglie la hack qui? Cioè, come si mette la rom? Vediamo. Fai partire mkgui? Metti la musica nelle cartelle. La musica sarà inserita dopo quella attuale. Alternativamente clicca lì. Aha. Ah, ok! Si preme run e poi si seleziona la rom. Quindi premo run. Ecco qua. E poi ti fa scegliere la rom. Perfetto. Cosa non così? Ihateyou.exe, sì. Faremo quello praticamente. Allora... Abbiamo capito... Almeno credo di aver capito come si mette la musica, quindi... Ovviamente manca una cosa molto importante. La musica. Quindi... Andiamo nel link che mi avete dato. Ehm... Allora, Luigi mi ha consigliato questa per il title screen. Sentiamo. Ok, non è male. È tipo una versione metal del tema principale. Che ne dite? Ci sta per il title screen? Potrebbe andare pure nel livello. Mentre spacchi Todd, sì. Allora, intanto la scarico e poi decidiamo dove metterla. Mi ispira come musica del title screen. Mi ispira molto. Facciamo così. La scarico. Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Eccola qui. Quindi questa me l'ha appena linkata Luigi. Se vi state chiedendo dove si trovano, si va qui. Super Mario World Music nel menu a destra. E c'è tutta la musica qui. Potete ascoltarla col tasto qui. C'è musica di tantissimi giochi diversi. C'è musica di tantissimi giochi diversi. Ce ne sono tipo 126 pagine. 6229 brani attualmente. Nel momento in cui faccio questo stream, 6.000 brani. C'è Kirby. C'è Kirby. C'è Kirby. C'è Daktes. Questa mi fa venire in mente Mario Strikers. Oddio, hai ragione. 6.000 pagine. Non 6.000 brani. 6.000 pagine. 6.000 pagine. Allora, sono... No, ok. No, no, no. Sono 126 pagine. 6.000 brani. Faccio prima di dire cosa non c'è. Sì, c'è di tutto. C'è Omori. C'è di tutto. Allora. Quello che ha fatto prima Luigi è andare su... Su... Dov'è che stava? Super Mario Bros. Eccolo qua. Overworld Metal Version. Ed eccoci qui. Quindi la scarico, perché già abbiamo appurato che ci piace. Allora, file spc. È il file musicale. Per ascoltare l'SPC sul PC dovete prendere un tool che si chiama, se non sbaglio... Questo qua. SNES SPC 700 Player. Questo però vi serve solo per ascoltare, non serve per metterla. Ora, credo che basti il TXT in realtà. La musica... Che ci crediate o no? La musica è un TXT. È un file di testo. Credo che basti questo. Questa è la nostra musica. Vi piace la nostra musica? La traccia che hai mandato su Discord, vediamo. Ok. Duraner mi ha linkato. Duraner mi ha linkato il tema di Robo di Crono Trigger. Un classico, che ovviamente è totalmente identica a... È la stessa canzone. Comunque no, non penso che metteremo il tema di Robo. È troppo felice e allegro. Noi vogliamo... Una... Roba da... Uccidere Todd. Usare una musica di Red, potremmo? Vogliamo fare che facciamo la ricerca... Di Red? Vediamo che musica ha fatto Red. Chissà se c'è musica mia. Chissà se ho mai mandato musica. Un attimo. Non credo. No, non ho mai mandato musica. Ho pubblicato delle hack, ma non ho mai mandato musica. Corea Labyrinth l'abbiamo sentita, se non sbaglio, in... Super Mario World Central Production 2. Buongiorno, Felicesco. Come va? Questa l'adoravo. E anche in Invictus hai ragione. Ok, Invictus hai ragione. E qual era l'ora? Quella di Super Mario World Central Production. Ne fate troppe! Fanne di meno! Comunque è bellissima. C'è poi questa parte che è stupenda, tra un po'. Quanto è bella questa parte. Però non siamo qua per dire quanto siamo belli, quindi... Ci serve musica metallara per uccidere Toad. Quindi questa musica è stupenda. Ma... Non ci serve per uccidere Toad. C'è anche la musica di Duraner. Duraner ha pubblicato un po' di cose di ActRacer. Questo è un po' di ActRacer. Bellissima, bellissima. Fear Factory. Bella. Bella, bella. C'è Secret of Mana. Sono totalmente accurate, comunque. Da quello che ricordo è totalmente accurate. Questa suona quando Mario si pente per aver ucciso Toad. Facciamo il momento alla fine in cui Mario si pente. E pensa che cosa ho fatto. Ah, non potrei seguire tanto la stream perché acquisti Baldi Basics Plus. Va bene, comunque... Buon divertimento. E grazie per essere passato. Allora, detto tutto ciò. Mario Metal Version. Facciamo così. L'abbiamo scaricata già? Sì. Mettiamo Mario Metallaro nella cartella della musica. Si mette nella cartella music, se non sbaglio. Poi... Credo di poter chiudere lo zip. Il zip? Lo zip. E dopo aver pensato cosa ho fatto, festeggia. Allora, apriamo di nuovo. Add Music Key. GUI. GUI sta per l'interfaccia grafica. Che ai miei tempi non c'era. Non c'era l'interfaccia grafica. Si faceva tutto col DOS. Ai miei tempi, quando ero giovane! Allora, facciamo Add New Song. E c'è Super Mario Bros. Metal. E appare... Qua. Ok, dobbiamo fare Run. E selezionare la hack, no? Quindi, selezioniamo la nostra hack. Faccio una copia. Faccio un copia e incolla che non guasta mai. Seleziono la hack. Please wait a moment. Allora, questo è l'output di Add Music. Sembra che non ci siano errori, quindi è tutto a posto. Perfetto. Questa è la nostra musica. Quindi ora, se torno su Lunar Magic, la ricarico. Torno su Apri Recente e la ricarico. Ehm... Oddio, come si sceglieva la musica del titolo? Mi sono scordato! La musica del titolo, come si cambia? Credo che sia qui. Allora, andiamo in un posto bello. Vi porto in un posto molto bello. La nota musicale sì, ma non è per il titolo, credo. Questa è la musica del singolo livello. Vi porto in un posto bello. Vedete questa icona del castello? Vedete questa splendida icona qua del castello? Accanto alla stella colorata? Questa è l'icona che ci porta nella mappa. Benvenuti nella mappa! Non volevo togliere le finestre. Benvenuti nella mappa! Allora... Sì, levo magari l'immagine. Ci porta il Mario Scasso. Ehm... Posso zoomare anche qui? Faccio tipo... 300. Eccoci qua nella mappa. Ci porta il Comedy Central. Sono la mappa! Sono la mappa! È la mappa! È la mappa! Allora... Qua possiamo mettere tipo per esempio che Mario parte direttamente sul primo livello. Così facciamo meno strada. Poi Luigi separatamente. Quindi mettiamo Mario e Luigi. Ehm... Ora... Una cosa importante è che se andate qua sull'icona... Ogni volta devo zoomare, quindi vi faccio vedere l'icona del message box, questa qui. L'icona blu col cerchio rosso e message box. Questi sono i messaggi. Se l'aprite qua ci sono tutti i messaggi del gioco. Quindi questo è il messaggio di benvenuto quando entri nella... nella hack. Cosa diciamo di bello? Benvenuto! Ehm... Salve! Uccidi tutti i TOD. Anzi... Missione! Non ci sono i due punti. Ehm... Non ci sono i due punti? Va bene. Missione uccidere... Tutti i TOD. Non sopporto lo spazio automatico. Ehm... Facciamo così. Ecco qui. Salve! Missione uccidere tutti i TOD. Potremmo metterlo tipo un po' centrato. Manualmente, così. Mi tocca inserirli. Sì, se voglio i due punti devo inserirli io. Ma per ora andiamo bene così. Ah, Luigi aveva proposto qualcosa prima. Francesco dice che gli è arrivati GBSP ma non lo può usare perché non hai caricabatterie. Che gioco hai preso? Allora, Luigi aveva scritto... Un tileset da usare. Il tileset... Meet. Bene, mi piace. Allora, questo è il messaggio comunque che appare quando entri, quindi... Questo dice... Salve! Missione uccidere tutti i TOD. Quando prendi Yoshi, questo è il messaggio che appare? Ehm... Ciao, sono Yoshi. Andiamo a uccidere tutti i TOD. Sono molto originale. Ho la qualità di scrittura di un undicenne. Ok, mettiamo così. Mario deve sfogarsi. Andiamo a capo. Mario vuole. Non ci entra. Mario si sfoga. Con i TOD dopo aver giocato a Paper Mario Sticker Star. Andiamo un pochino più a capo. Troppa roba. dopo aver giocato a Paper Mario Sticker Star. Questo non si può fare in Mario Maker. Non potete mettere il testo così. Probabilmente è meglio così. Ehm... dopo aver giocato a... Paper Mario Sticker Star. Ammazzali tutti. Ciao, sono Yoshi. Andiamo a uccidere i TOD. Il famosissimo dinosauro Yoshi della serie dell'idraulico paffuto. Citazione di Yoshi. Sono Yoshi. Andiamo a uccidere i TOD. Ciao, sono io, Yoshi del gioco Super Mario World. Il tuo compagno per l'uccisione. Ah, lui ci consigliava qualcosa per il message box. Vediamo. Ah... Aveva scritto... Me lo sono perso. Ah, ok. Mario deve sfogarsi con i TOD dopo aver giocato... Ok, avevi consigliato quello. Perfetto. Ok, l'aveva consigliato Luigi e poi Tony l'ha riscritto. Me l'ero perso, va bene. Mario ha giocato a Sticker Star. Sai quello che devi fare. Potrebbe starci, però magari la gente non coglie. In realtà non so chi è la gente perché questo è uno shitpost solo per noi, ma va bene. Potrei mettere i TOD che nuotano in un laghetto. Quando apri il message box il laghetto sperisce e cadono nel pit. Ehm... Hai ragione, hai ragione. Allora, intanto salvo qui. Vi ricordate come si cambia la musica nel title screen? Allora, intanto il title screen, se non sbaglio, è livello codice 1C7. No? È C7, basta. Però ricordo distintamente che non basta fare così. Ehm... se vado su opzioni... Ricordatemi, Duruner e Red, se vi ricordate meglio di me. C'era qualcosa da fare per impostare 1C7 come livello iniziale? E non ricordo neanche perché bisognava farlo. Ricordo solo che lo facevo sempre. Ehm... Posso farlo ad ad music? Ok. Torniamo su ad music. Ehm... Allora, abbiamo Super Mario Bros. Metal. Quindi tipo, sta dicendo che se vado qua e vado su title... Invece di fare... Ok, faccio su title change e metto Metal. Giusto? Così? Ehm... Allora, facciamo così. Mi sto un attimino confondendo con le hack. Mettiamo la hack dentro la cartella della musica. E facciamo run. Ok, niente errori, tutto bene. Proviamo, apriamo. Si possono inserire sprite sia in questo caso. Sì, lo faremo presto. Manca l'audio! Sono un genio, ho tolto l'audio perché prima c'era la musica in sottofondo. Ehm... Mute sound? No. Ok, no, non sta partendo. Però, se apro un nuovo file... Mario si spoga con i Toad dopo aver giocato a Paper Mario Sticker Star. Ammazzali tutti, ecco il testo! Quindi il testo funziona, la musica finora no. L'audio probabilmente è un po' basso, quindi mettiamo tipo... Ehm... 28%. Ok, qua c'è questo bug che tipo scende da solo. Mettiamo 50. Hmm... Mettiamo 100. Ok, teniamo 100. Allora... No, in realtà ok, in realtà ho sbagliato io. In realtà ho sbagliato perché ho messo nella musica la cartella hack e poi non l'ho tirata fuori. Mi ero confuso semplicemente con i file perché ho trascinato qui e poi non ho trascinato fuori. Quindi da qui la prendo e la rimetto... No, non così. La prendo e la rimetto qua. Sostituisci... Sì. Ok, ora vediamo. No, comunque non va. Ehm... Allora... Stavolta non mi sono confuso con i file, giusto? Una stanza segreta dove ci sono i dodgi sanguinanti con un message box con scritto questo è il posto più bello del mondo, va bene. Lo tengo a mente. Intanto voglio capire come si mette la musica nel title screen. Una cosa molto importante da fare quando fate hack è andare su Super Mario World Central e cercare... Site Super Mario World Central... Ehm... Ehm... Come cambiare la musica del title screen. Semplice, trova la musica originale e rimpiazzala con quello che vuoi. Quindi... Praticamente è quello che abbiamo fatto ora, no? Eh no, grazie per il follow, per Luigi. Benvenuto. È quello che abbiamo fatto ora. Ehm... Intro screen è una diversa. Ho seguito ad music? Dovrei, sì. No, se metto qua parte sempre... Questa... Ok, forse l'ho fatto male. Change Selected Song, Mario Bros Metal. Ok, forse ha funzionato ora. Ora ha funzionato. Ok, ora ha funzionato. Ero semplicemente scemo. Si, hai ragione, devo fare Change Selected Song e non l'ho fatto. Faccio sempre Run per eseguire. Niente errori. Bene. Ora tiro fuori la... La ROM. E la rimetto qui. Ok. Ok, ora apro. E non va. Hack. Non va in ogni caso. No, non ho fatto casino con i file. Quindi ho sbagliato proprio qualcosa e non va. Vi ripeto che... Questa roba la facevo tipo dieci anni fa. Sono parecchio arrugginito. Come cambiare la musica nel titolo? Vai ASM? SNES? Ok, proviamo così. Proviamo a cambiare... Allora, andiamo sulla cartella ASM, seguendo quello che scriverei in chat. SNES. TWIX. Cambia la riga 39, cioè title. E mettiamo quella che abbiamo inserito noi. Allora, noi abbiamo inserito il numero... 29. Aspetta un attimo. Ma noi abbiamo messo come musica globale 5? Abbiamo messo 5 Super Mario Bros Metal. Vuol dire che abbiamo rimpiazzato lo Starman? Mi sono un attimo confuso. Proviamo a mettere 5 qui. Se ho capito bene, per sbaglio ho rimpiazzato lo Starman invece del titolo. Ok, proviamo così. Proviamo a fare run. Ho messo lo Starman Metal. Ok. Quindi tiro fuori la hack e la metto qui. Eh... Partiamo. No. Mi ignora. Mi ignora bellamente. Proviamo una cosa. Proviamo una cosa. Proviamo a tornare nel livello 105. E metto lo Starman. Benvenuti allo streaming in cui Storm si ricorda piano piano come si fa una hack di Mario World. Allora, andiamo qui. No, non è cambiato un cacchio. Allora, proviamo un'altra cosa invece. Torniamo qua. E metto 29. Perché qua abbiamo messo musica locale 29 Super Mario Bros Metal. Quindi provo a mettere il 29. E faccio run. Ehm, vediamo se va. Ho aperto la ROM da Lunar Magic. Devo aprire quella su AdMusic. Cioè, intendi... No, 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 ho aperto la ROM errata perché l'ho presa poi da qui e l'ho copiata nel desktop. Quindi sono lo stesso file. Vediamo se ora se funziona. Ho fatto run, vero? Non va ancora. Signor Twix. Signor cartella Twisk. Qua ho messo 29, giusto? Proviamo a fare... Proviamo a riaprire AMKQI. Provo a fare tipo reload, non lo so. Abbiamo Super Mario Bros Metal sia come 15, sia come 29, sia come 5. La sto mettendo comunque e non sta apparendo da nessuna parte. Andrew dice, ecco perché uso Super Mario Bros X. Sì, quando tu fai hack di Mario World devi tenere a mente che certe cose richiedono molto più tempo. Quando vuoi imparare. Rimetti il 5, dici? Proviamo per ora il 29. L'unica cosa che ho cambiato per ora è che ho riaperto AMKQI. Selezioniamo di nuovo la ROM. Tutto fatto, niente errori. Comunque questo è solo per il title screen, perché se vale per i singoli livelli so esattamente come farlo. Per il title screen non ne ho idea. Allora apriamo qua. Oh, ok, è apparsa! L'unica cosa che ho fatto è stato chiudere e riaprire AMKQI. Abbiamo la musica nel title screen! Poi cambieremo anche il title screen, ma per ora... Per ora facciamo così. Allora, prima... Atchip proponeva di mettere i toad che nuotano in un laghetto e quando apri il message box il lago scompare e cadono nel pit. Non so se intendeva proprio nel title screen oppure nella parte dell'intro quando c'è il messaggio. Anche se per mettere i toad che nuotano dovrei farli tipo pesci chip chip. Nell'intro, ok. Facciamolo. Andiamo... nel livello C7. Non C7. Qual era... Vi ricordate qual era il livello? Eccolo qua, C5. Metto tipo Mario qui. Accorcio qui. Sto premendo ora quest'icona della porta blu in alto che fa apparire il bordo dello schermo. Così so dove è il bordo. Metto Mario un po' più a sinistra. E metto... Per prima cosa mettiamo il bordo del terreno. Quindi... Vedete chiaramente la differenza. Mario Maker è user-friendly al massimo. Super Mario Bros. X è un pochino meno user-friendly, ma vi permette di personalizzare di più. Super Mario World è estremamente personalizzabile, ma probabilmente il meno user-friendly tra tutti. Rimetti la musica. Per ora non sto mettendo la musica sottofondo perché ci sarà la musica del gioco. Quindi metto l'acqua. Anzi, non così l'acqua. L'acqua la devo mettere... Vediamo se mi ricordo con layer 3. Acqua. Solo low tide. Ecco qua che appare l'acqua. Metto che appare sopra tutto, così. E poi prendo gli sprite e metto un pesce chip chip. Tipo così. Posso fare andare l'acqua velocissima, sì. Quando si mette l'acqua una cosa importante da fare è andare sull'icona dell'hackitù. Tante icone da ricordare. Ma... Ricordate. Quando si mette l'acqua si va sull'icona dell'hackitù e si abilita Sprite Buoyancy 1. Che vuol dire abilita il galleggiamento. Se non si abilita, non galleggia. Abilitando, galleggia. Ma ti dispiacerebbe provare a fare un hack un giorno? Magari qualcosa di corto. Mi piacerebbe. Mi piacerebbe se ci fosse più gente italiana. Che fuck. Quindi, l'abbiamo fatto. Vediamo se funziona. Quindi abbiamo la musica. Abbiamo la nostra musica. Ora, se io faccio cancella dati... Ora dovremmo vedere il pesce che galleggia. Esatto, galleggia. Però purtroppo non funziona... Non funziona perché quando appare il messaggio... Il... Lo schermo si ferma. Cioè, si ferma e non si può vedere poi il pesce che cade. Quindi l'idea di fare cadere il pesce potremmo farla dopo, dentro un livello. Ma non nel tatoscreen. Devo spostare il messaggio, cioè? Pesciuta la battuta, scusa me la sono persa. Cosa usa di fantasmi al supermercato? Ah, il buno spesa! Grazie per la battuta, Felicesco. All'inizio del livello potrebbe starci. Facciamo così, facciamo. Proviamo. Allora, qua lo levo. Lo levo. Ah... Chiudo intanto l'hack. Torniamo al livello 105. Poi mettiamo altra musica. Mettiamo, per esempio, Running Hell. Di Cave Story, che mi piace molto. Musica di Doom, musica di Cave Story. Tutto quello che vogliamo. Allora, abbiamo deciso di fare così. Mettiamo tipo così. Mettiamo... Mettiamo... Spostiamo un po' tutto un pochino più in qua. Ok, così. Così abbiamo lo spazio per fare morire questo Toad. Quindi quello che ho fatto prima lo rifaccio. Vado qui. Layer 3. Acqua, bassa. La metto così. Icone dell'Akitu. Sprite Buoyancy 1. E metto un pesce. Mettiamo il pesce tipo qui. Poi si va su Special Commands & Generators, che è un'opzione qua nella finestra degli Sprite, per fare apparire un messaggio. Display Message 1. Quale messaggio appare? Il messaggio che appare è quello che decidiamo qui, nella schermata dell'Overworld. Allora, i messaggi sono un pochino limitati, perché possono esserci un massimo di due messaggi per livello. Quindi vado qui. Vi spiego un pochino come funziona. Vedete? che siamo nel livello 105. Non lo vedete perché è un po' piccolo, ma c'è il livello 105. E questo è 105 qua nella lista dei messaggi. Quindi cambiamo il messaggio 105, che corrisponde appunto al livello in cui siamo. Che messaggio mettiamo qua? Ciao Mario! Uccidi i Toad. Oppure mettiamo quell'altro messaggio. Mario ha appena giocato a Sticker Star. Sai bene cosa devi fare. Così. E ora dovrebbe funzionare. Abbiamo la nostra musica, il volume è un po' forte. Mettiamo... Ho sempre problemi con l'audio su SNES 9X. Ok, così. E qua non importa, qua abbiamo deciso che non si può fare. Ok, partiamo qui. Quindi, vedete il pesce che galleggia? Nel momento in cui appare il messaggio, l'acqua sparisce. Ed ecco che cade, bellissimo! No! Ripetiamolo, ripetiamolo. Replay. All'inizio c'è l'acqua, c'è il pesce che galleggia, tranquillo. Appare il messaggio che fa scomparire l'acqua, perché è così che funziona. Vi spiego tecnicamente perché. Il messaggio è layer 3, l'acqua è layer 3. Sono entrambi layer 3. Quindi quando appare il messaggio, sovrascrive l'acqua. Quindi non c'è più l'acqua e il pesce cade. E muore. Benissimo! E poi il livello continuo come prima. Poi ovviamente cambieremo la grafica e faremo che il pesce è un Toad. Mario schiocca le dita. Cambieremo che i Koopa sono Toad, tutto sarà un Toad da ammazzare. Tutti i nemici sono Toad da ammazzare. Ma questo lo cambieremo tra poco. Poi metteremo macchie di sangue a terra. Prenderà forma piano piano. Moire Thanos. Ok, musica, musica, serve musica. Musica del livello. Mettiamo Running Hell. Secondo voi per il livello 1 è meglio? Running Hell? Oppure Doom? Molti piani ma poco tempo. Potrei fare anche qualcosa fuori dallo stream, così... Sì, grazie, sono andato su grafica. Potrei fare qualcosa anche fuori dallo stream? Così non prendo troppo tempo. Allora, uno dice Doom e uno dice Running Hell. Chi la fa la pixel art? Posso fare un po' di pixel art. Ma se volete anche voi potete mandarmi robe. ATC dice aggiungerebbe un tube e costruirebbe i livelli in un'altra zona per semplificare la costruzione del livello dopo. Cioè, perché non dovrebbe andare bene? Nel livello iniziale. Alla fine metti Toad che esplodono. Va bene, va bene. Possiamo fare le bobombe trasformate in Toad, quindi esplodono dopo un po'. Allora, intanto andiamo su Running Hell. Ve le faccio sentire, se non le conoscete. Running Hell di Cave Story. Ce ne sono due... Oh, ok! Guardate chi l'ha fatta! Guardate un po' chi l'ha fatta! Beh, direi che non ho dubbi su quale usare tra le due. Questa è la musica di Cave Story, la adoro, è bellissima. Ah, non ci sono spray di Toad su Central. Credo di sì, ma possiamo benissimo farli noi. Anzi, è più divertente secondo me se li facciamo noi. Lo sta facendo Duraner. Se lo fai tu è d'aiuto. Allora, facciamo così, magari io vi faccio vedere come si fa, ma se Duraner me lo fa avere già pronto, è più veloce. Avete presente tipo negli show di cucina dove si vede un po' il processo creativo e poi tipo il cuoco tira fuori il piatto già fatto, ecco. Vi faccio vedere come si fa, però poi magari tiriamo fuori il piatto già fatto, così non stiamo qua per tutto il giorno. Un'organizzazione stermina Toad. Potrebbe fare parte della storia. Il giocatore apri box solo una volta, quindi la prima vita non laverà l'acqua alla seconda sì. Ehm... Fammi ci pensare. Credo che anche se responi dal checkpoint, quando torni indietro si ripete di nuovo il message box. Credo che riappare ogni volta. Allora, questa è la musica, vi faccio sentire quanto è bella. Kale Story comunque è un gioco fantastico, capolavoro. La parte più melodica, la parte più bella, arriva tra un po'. Mi torna al menu un minuto. La adoro. Ehm... Basta come incollare lo spread di Mario Maker 2. Esatto, è quello che pensavo di fare. Ehm... Consigli di farlo con Ase Sprite? In realtà... Allora, si può usare qualunque tool per fare la grafica, no? Puoi usare Paint, puoi usare Photoshop, Ase Sprite. Solitamente uso Photoshop. Ma per mettere la grafica in Mario World ci vuole un tool specifico che vi faccio vedere tra poco. Comunque l'alternativa invece è Doom. Possiamo metterle entrambe, tipo una in un livello e una in un altro. Allora, Doom... Ah, questa? E1M1? Esatto. Sapete cosa? Voglio mettere questa nel primo livello. Perché è quella più ignorante, più... che ti gasa. E poi Running Hell si mette in un livello più importante. Tipo nel livello del boss. Quindi, prendiamole entrambe. Prendiamole entrambe intanto. Doom. Eeeh... Cave Story. Download e download. Eccoli qui. Allora, vado sempre qua su musica. Music. Qua c'è la nostra vecchia musica Super Mario Bros Metal. Metto Doom. Mi piace che la cartella si chiama Doom Mood. Quindi la mettiamo... Qui. Eeeh... Poi prendiamo Cave Story, Running Hell. Prendiamo entxt. Dov'era? Ah, qui. Ecco qua le nostre tre musiche. Quella musica la associa a livello verticale e la lava sale. Quale? Quella di Doom o Cave Story? Quella di Cave Story... Io la associo quando ho giocato ai miei tempi a Cave Story. Oddio, ai miei tempi sembrano 50 anni. Ma... Eeeh... Bellissima. Quella di Doom è da livello verticale. Servono anche le due cartelle perché contengono gli strumenti personalizzati. Ah, hai ragione. E le metto... Dove? Qui? Giocata a Cave Story, sì. Vanno in samples, va bene. Grazie per avermelo ricordato perché non mi ricordo le cose, quindi... Questa è una cosa importante. Alcune musiche avranno il loro sample, cioè il loro file... Diciamo degli strumenti. Quindi non basta mettere il txt nella cartella music. Bisogna andare anche in samples e mettere la cartella del sample. Quindi... Doom... E... Running Hell... Qua. E così dovrebbe funzionare. Ora... Chiudiamo tutto quanto. Ho un po' di roba aperta. Prendiamo di nuovo la hack. La incollo qua in musica perché è la nostra versione aggiornata. Eeeh... Chiudo e riapro... I make up a cui. Dovrei provare a mettere Roboteam, no. Eeeh... Add... New song. Abbiamo detto... Doom. Eeeh... Una alla volta? Ah no, così. Game story. Ecco qui. Run. Vediamo se funziona. Oh, c'è stato un errore da qualche parte. Eeeh... L'eco di Doom ha superato lo spazio totale nella RAM. Che vuol dire? Eh... Ciao Luigi comunque. Ha superato lo spazio totale nella RAM. Eeeh... Ora, probabilmente potrei cercarlo. Audio RAM? Forse... Non so comunque cosa sia Porter Mode. La musica è troppo grossa. Potrebbe essere... Ma ovviamente so che la gente la mette, quindi perché non riesca a metterla? Posso sistemare abbastanza il valore del comando echo. Apri txt. Beh, un modo ci sarà. Ma nel dubbio andiamo qua nell'eco. Vedete che è molto poco user friendly a volte? Tenetelo a mente. Se volete fare hack, a volte bisogna entrare nel file txt e cercare l'eco. Eccolo qua, echo. F4 o 0.3? Non so quale dei due sia il valore dell'eco. Ve lo zoom un po'. Non è quello? Lo zoom così. Ok, così ce l'avete bello grande. Qua ci sono i sample che abbiamo visto prima. Scendi più in basso, va bene. Valori dell'eco. Questo qui? Mi piace questo messaggio di avviso che dice Non incasinare le cose se non sai quello che fai. F1.0.6? Provo a sostituirlo con F1.0.4. Va bene. Proviamo. Ehm... Faccio ripartire MKQui. Posso fare semplicemente run? In realtà qua basta che faccio sull'hack nel desktop. Dice ancora di no. Immagino che non ci sia bisogno di toglierla e rimetterla. Allora, prendo qua e metto... Dov'era? Metti 3 o 2. Facciamo così. Mettiamo... Dove stava? Ecco qui. Mettiamo 2. Se faccio run... Ok, ha funzionato, ora mi dà errore running hell. Non capisco perché, perché... Un modo ci deve essere, no? Perché se la musica è fatta così di default ci sarà sicuramente un modo. Allora, vediamo anche qua. Ehm... F1... Credo che sia questo, dove c'è F1.0A. Prima così. Ho messo Super Mario Bros Metal nelle musiche globali. Oh! Beh, rimuovi. No, come si rimuove? Come si rimuove? Ehm... Ok, aspetta così. Questa musica è... Mi sto confondendo qua. Change Selected Song c'è sia sopra che sotto. Immagino che... Ok, ho rimesso Starman. Sopra ho rimesso Starman. Ok, sono caricate sempre quindi prendono più spazio. Capito. Ok, mettiamo di nuovo Doom e vediamo se va. Fatto! Senza errori. L'ho applicata alla ROM nel desktop. Va bene. Quindi possiamo prendere direttamente questa ROM. La ricarico. Ora, vado sull'icona del blocco musicale. Sarete stanchi di sentire la mia voce quindi... Lascio che parli la musica. Se riesco. Quindi si fa Bypass the music header setting. Così appare tutta la musica personalizzata. E... Eccola qui. Doom. Salva. E apriamo. Qua abbiamo ancora la musica Super Mario Bros Metal. Apriamo. Qua devo sistemare, va bene. E... Eccola! Guardatela! Cioè, sentitela che bella! è bellissima, è ignorantissima ed è bellissima! Yoshi dice... Ciao, sono Yoshi. Andiamo a uccidere tutti Toad. Intanto mi colpisco da solo Yeee Ok Facciamo passi avanti Facciamo progressi Ora direi che è il momento di personalizzare La grafica Mettiamo queste palette Vediamo che dice Duraner Duraner consiglia di mettere questa palette È un pochino incasinata Secondo me è meglio di no Super Mario Bros. Metal No, non era da mettere nella parte globale Prima era sbagliato metterlo a globale Quindi vi faccio vedere che In globale ho rimesso tutte quelle originali Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Quelle originali Mentre in Local Songs Ho messo in realtà per sbaglio due volte Super Mario Bros. Metal perché ho fatto un casino Anzi un attimo che la cambio Torno su Originals e rimetto Cave Così Così Ecco fatto Così abbiamo Super Mario Bros. Metal Allo slot 29 Cave Story 2A E Doom 2B Sì quindi quelle personalizzate Metti le solo in Local È meglio Esatto Ok una cosina da ricordarmi Torno qui e levo la musica Levo l'acqua Ok non serve più qui Rimettiamo un pochino normale diciamo Vabbè non importa Mettiamolo normale Ok Ora Musica personalizzata Questa magari è l'ultima cosa che faremo oggi Diciamo per cominciare Ho detto musica O grafica Facciamo la grafica personalizzata Quindi Potete usare qualsiasi programma di grafica per fare la pixel art Ma Per metterla Ho detto musica ok Volevo dire grafica Mettiamola grafica Per metterla andate sempre su Tools Sempre in Super Mario World Central E il tool si chiamava Il tool si chiamava Il tool si chiamava Il tool si chiamava Probabilmente quassù Cercate di capire che ci sono Un centinaio di tool Devo ricordarmi com'era Poi c'è così tanta roba che possiamo spiegare C'è l'HDMA C'è Ovviamente Nemici personalizzati Blocchi personalizzati Sì YYCHR Buono Di recente ne conoscevo anche un altro Un attimino Perché me l'ero salvato da qualche parte Si chiamava Si chiama Grafic Editor Un attimo Ok Grafic Editor In realtà il nome era piuttosto chiaro Quindi non era Così difficile da ricordare Come si chiama l'editor di grafica? Grafic Editor Allora YYCHR Che è quello che dice Red È un classico Però di recente ho scoperto questo qua Che è piuttosto comodo Lo metto qua Grafic Editor Ed eccolo qui Allora Apro L Ok Prima di aprire robe c'è una cosa molto importante Una cosa essenziale per modificare la grafica Come si modifica la grafica del gioco? Tornate su Lunar Magic E vedete che ci sono queste icone qua su? Vi faccio lo zoom Ci sono tante icone Ma quello che vi interessa sono Se mi ricordo bene Ok, sono L'icona del fungo rosso È l'icona del fungo blu L'icona del fungo rosso Estrae la grafica Di Super Mario World In una cartella Quella col fungo blu Estrae la grafica estesa La grafica estesa sono le cose personalizzate che potete aggiungere Voi potete sia rimpiazzare la grafica di base del gioco Sia aggiungere roba estesa se non volete rimpiazzare la roba originale Quindi se volete mettere roba in più senza rimpiazzare la roba originale Nel nostro caso Penso che farò la roba originale Modificherò la roba originale Ma se volete essere lungimiranti Avere, diciamo, sia i nemici di base Sia i nemici di custom Vi conviene fare entrambi Quindi, ora io premerò qui Voi non lo vedrete bene Ma vedrete che Premo Quassù Il funghetto rosso E il funghetto blu Così facendo Mi appariranno due cartelle Che sono Graphics ed ExGraphics Ora, ExGraphics è vuota Perché, come dicevo prima La grafica estesa ancora Non ce l'abbiamo Non abbiamo aggiunto nulla di custom Mentre Graphics è la grafica di base del gioco E sono tutti Bean Sono tutti Bean Rimetto un po' di musica in sottofondo Perché ora stiamo facendo Grafica, non più musica Ecco qui La musica di WarioWare Di quando modifichi, appunto, la grafica Quanto è bella la musica di WarioWare Domenico Bean Quanto è bella la musica di WarioWare Allora Sono tutti Bean Per modificare Bean Vi serve appunto Graphic Editor Oppure un programma equivalente Ma vi consiglio Graphic Editor Che si trova sempre tra i tool di Mario World Central Quindi, siccome già l'ho aperto O l'ho già associato Potete fare tipo Così Apri con E aprire con Graphic Editor Io l'ho già associato Quindi Ne apro un a caso Per esempio 5 Vediamo cos'è Il 5 contiene la grafica dei pallottoli Bill Le palle che lanciano I... come si chiamano? I... Chuck Ci sono i Fuzzy Quindi questo è il contenuto Del GFX 5 Per esempio Apriamone uno a caso 25 25 Iggy E Reznor Per la felicità di Andrew Pixel Il 25 contiene Iggy Almeno credo che lui sia Iggy Non mi ricordo bene dov'è la musica La grafica Di Mario Da qualche parte c'è anche la grafica di Mario Sono un mucchio di cose disordinate Qua uno a corrisponde al terreno delle caverne 0 B E Roy Se non sbaglio E Morton Sopra GFX 00 C'è tipo Nintendo Presence C'è la grafica del fungo Che comunque posso modificare così P-Switch Blocchi Cose varie Di base Vi ricordate dove stanno i CUPA? Eccoli qua 01 01 sono i CUPA Ah Qua si può scegliere la palette Per esempio mettiamo la palette C Eccola qua Questa è la palette vera e propria dei CUPA Ne è bastati i TOD Va bene Ora Per modificare posso farlo direttamente dentro questo tool Per esempio posso fare che I CUPA sono arrabbiati Posso fare che il CUPA Ha Un sorriso Faccio un edit scemissimo ora Guardate qua Ora abbiamo un CUPA arrabbiato col sorriso Posso zoomarlo ulteriormente da qualche parte? Così lo vedete meglio? Credo di no Ma comunque dai si capisce spero Ah si qua Eccolo qua Ecco il mio CUPA arrabbiato Sma il mio CUPA Esatto Poi se faccio salva Semplicemente faccio così salva Torni in Lunar Magic Quindi prima vi ho parlato Delle icone Rosso e blu no? Ora invece ci sono le icone verde e giallo Semplicemente rosso estrae la grafica di base Verde importa la grafica di base Blu estrae la grafica estesa Giallo importa la grafica estesa Quindi ora per importare la grafica che abbiamo appena modificato Premiamo il fungo verde E ora Se aggiorni il livello Vado tipo avanti e indietro Eccolo qua Non lo vedete ancora ma eccolo qua Si vede molto piccolo ma è qui Facciamo tipo 800 E' bruttissimo ma è qui E' quello che abbiamo appena modificato Il CUPA arrabbiato Smag E' bruttissimo ma è solo per farvi capire come si fa Rimetto lo zoom Al 300 così Guardatelo Ora si apre il gioco Scusate la doppia musica ma si apre il gioco Ecco questi CUPA col sorriso Sono bruttissimi E non ho fatto tutti i frame dell'animazione ma Per farvi capire si fa così Un'altra cosa Vi faccio vedere che potete anche usare per esempio paint Zoomate moltissimo Zoomate molto Perché sono tipo pochi pixel Contate che Un quadratino così Vedete tipo un quadratino così che sto selezionando Sono 16x16 pixel Quindi l'altezza del CUPA è 16x32 16 in larghezza 32 in altezza Quindi dovete zoomare davvero molto Vi consiglio di usare un programma migliore di paint come Photoshop Asse Sprite Gimp Paint.net Qualunque cosa che non sia paint Ma va bene tutto più o meno Mettiamo caso che io faccio Un pollo Facciamo un pollo Un pollo Facciamo un pollo così Va bene È troppo grande ma per dire Se io seleziono Sì ho decisamente superato i 16x32 ma solo per fare capire Se lo seleziono posso incollarlo qua dentro così Quindi ora se io salvo e lo importo Guardate che c'è tipo la grafica rotta con un pezzettino di pollo Chiaramente è fatto male Non è fatto della dimensione giusta ma è solo per dirvi Potete copiare e incollare da qualsiasi editor Quindi vi consiglio Photoshop o Asse Sprite o quello che volete E lo incollate qui Ora come negli show di cucina io vi faccio vedere il risultato finale E mi apro da una parte qui Quello che mi ha mandato Durenner Eccolo bellissimo Vi faccio vedere Quello che mi ha mandato Durenner è Eccolo qua Sono già modificati con i Toad Al posto di equipa ci sono i Toad Vedete tipo la differenza qua sono Un attimo Qua sono Koopa E qua sono Toad Koopa Toad Quindi Prende il file che mi ha mandato lui Nella cartella graphics Lo trascino qui Un attimo ho troppe cartelle Aiuto ho troppa roba Ok qui Ho messo un collegamento come un genio Ah ce l'ho Inizia ad avere davvero troppe cartelle Se fossi da solo farei un pochino più di ordine Però non voglio perdere tempo con cose noiose Quindi ecco qua Sostituisci con quello che mi ha mandato Durenner Che è semplicemente i file già modificato Con la pixel art già modificata Un'altra cosa che voglio farvi vedere E' che Befuz l'altro giorno mi ha mandato la grafica di Toad Con la testa mozzata Zoom un po' Quindi avevo già la grafica di Toad con la testa mozzata Penso di metterlo come decorazione per terra Metterò tipo delle teste di Toad già mozzate in giro Sparse per il mondo Poi Lui Durenner mi ha mandato anche la grafica Oh la giornata Facciamo così Sostituisco di nuovo Mi ha mandato anche 0-0 Sostituisco Vediamo cosa ha cambiato qui Ah ok Ha cambiato l'altro pezzo del cuba Perché c'è un pezzettino di cuba anche in 0-0 Adesso è di Toad al posto del pesce Sì giusto hai ragione Dove sarà il pesce? Ebbene magari lo faccio un'altra volta perché Non starò qua a cercare tra tutti i bin dove si trova il pesce Ma lo mettiamo Mettiamo lo sprite che ha fatto Befuz Il sangue Il sangue per realistico Red dice Per la musica sembra che funziona così Il gioco ha un tot di memoria In cui Viene caricata la musica Le musiche globali Si chiamano così perché si trovano tutte già sempre nella memoria Quindi vengono caricate molto velocemente senza lag Per esempio la musica della stella Invece le musiche locali occupano il resto della memoria E vengono caricate al bisogno Quindi per esempio all'inizio di un livello Chiara Quindi puoi mettere una musica globale personalizzata Ma se è troppo grande rischi di non avere più spazio Ok, chiara Quindi fate attenzione a quando cambiate la musica globale perché è sempre caricata nella memoria Quindi se mettete troppa roba diventa troppo grande ed esplode Detto questo importiamo Vediamo Il lavoro dello chef Salve il livello Sì Eccolo Eccolo qua il tot Alla paletta sbagliata Adjustiamola Usare le palette di Mario? Ok Copio la palette da qui Posso copiare l'intera riga tenendo premuto CTRL e Alt Clicco col tasto sinistro e clicco col tasto destro Così Eccolo qui Lo faccio a bianco Ecco qua Facciamo tipo grigio così Magari un pochino sul rosso Un pochino più scuro Quando facevo le hack stavo per ore a cambiare tipo leggermente il colore Un pochino più sul blu Facciamo un pochino più sul blu così Un pochino più scuro e un pochino più saturo Saturo Così Un pochino meno saturo Un pochino più scuro Più chiaro So parlare Va bene così Dai va bene così Eh poi vogliamo sostituire anche questo e ci mettiamo la testa mozzata Poi voglio mettere anche teste mozzate qua in giro come decorazione A questo proposito possiamo cambiare anche il terreno Dai mentre ci siamo cambiamo il terreno Qualcuno si ricorda in quale numero è il terreno? Due? Non è il due Il due è l'Akitub, bombe Che vogliamo anche cambiare più avanti Ma ci arriveremo più avanti Bentornato Felicesco Capolavoro 10 su 10 hack dell'anno Ah il sei sono pesci smac, delfini Sette Eh il headset della ghost house 14, 15, 17 Ok Ah sapete dove si può guardare in realtà? Non è a caso Se voi andate Dov'è che stava? Sta qui da qualche parte Ok qui Sempre accanto a tutti questi Bellissimi funghetti qua su Ci sono altri funghi Icone, icone su icone E là Andrew Power Tutto va bene tu? Stiamo creando un livello di Mario World Con Lunar Magic Quindi Questi ve li ho spiegati prima Fungo rosso esporta la grafica Di base Fungo verde importa la grafica di base Fungo blu esporta la grafica estesa Fungo giallo importa la grafica estesa Il fungo belenoso rosso Serve a modificare la grafica E a fare che la grafica punta a tileset diversi Vi spiego meglio Vedete che in questo momento Posso attivare qua Enable Bypass Attualmente FG3 per esempio FG3 Io lo so per memoria FG3 equivale al terreno Se io cambio questo qua Vedrete che mettendo 17 Cambierai il terreno E si glitcha tutto Perché chiaramente 17 non è fatto per essere Un terreno Non messo uno a caso Ma ecco qua potete cambiare Te li metto 15 E da questo menu potete anche sapere A quale file equivalgono Per esempio qua così potete sapere che FG3 for ground 3 E il bin 15 Scendendo ci sono un mucchio di not inserted Guardate qua Not inserted Not inserted Not inserted Non si vede molto bene perché è piccolo Ma not inserted Questa è tutta roba che potete mettere voi Potete importare roba estesa personalizzata Ma per ora È tutto teorico Lasciamo perdere Ci interessa solo il 15 Ci interessa il 15 Quindi vado qui e apro 15 Ed ecco il terreno Facciamo così Qua c'è questo tile che equivale a Quando spunta fuori dal terreno La tanta talpa Metto la palette del terreno Diciamo che non ci serve Perché noi non avremmo tanta talpe Soprascriviamolo In realtà Non vi conviene tanto soprascrivere le cose già esistenti Vi conviene di più creare roba aggiuntiva Con la grafica appunto estesa Ma Per fare prima Facciamo così Facciamo Copio questo Lo incollo qui Ci metto il sangue Prendo il colore rosso Ci metto una macchia di sangue Mettiamo tipo un po' di rosso Tipo così Se c'è per caso Se volete imparare qualcosa Non vi è chiaro Ditemelo tranquillamente Rispondo a tutte le domande Sia se siete qui in diretta su Twitch Se c'è per caso Trovate questo video Tra un anno su YouTube Vedo sempre i commenti di YouTube Il sangue nero No è solo la silhouette Tipo tipo Ok questo è un buon colore Per il sangue In teoria Ho smusso un pochino i bordi Proviamo a fare una pixel art Non dico buona Ma leggermente decente Dai Qua li metto così Questo qui Facciamo finalmente un po' di pixel art Qua sopra dovrebbe essere più chiaro Qua potrei fare un pochino più così Ecco guardate che bello Non so bene come farlo Sembrano pantaloni con le tasche ora Potrei fare tipo così Per dare un pochino Un effetto di rilevo Non sono un esperto di pixel art Qualcosina la so fare Ma non sono un esperto di pixel art Potete ben vedere Voglio dare un pochino di impressione di rilevo Tipo che leggermente rilevo Ok tipo così Adoro comunque la musica di WarioWare Lì sottofondo Ok tipo così E sopra Mettiamo un pochino più chiaro così E anche qua giù Ecco come vi pare Un po' creepypasta Forse un po' troppo plasticoso Ma sì dai direi che va bene Per ora va bene Salvo Tastino verde Fungo verde per importare Salvo Per aggiornare la grafica Dovete uscire e rientrare nel livello Quindi vado nel livello aggiuntivo Successivo con Page su Page up Torni indietro con page down E ora Magicamente Aprendo qui Vado su Direct map Perché lo troverò qua facilmente Dov'è 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 Non lo vedo Non lo vedo Sono cieco Eccolo qua Eccolo qua No però non è proprio questo Il tile E' qui da qualche parte Lo troverò Fidatevi E' qui da qualche parte Possibile che non ci sia di base? Se non c'è di base Apriamo la map 16 Basta aprire il fungo rosso Cioè il fungo verenoso rosso Dici? Allora facciamo così Apriamo la map 16 Un'altra icona da imparare Benvenuti In un'altra icona da imparare Questa icona è Il blocco punto interrogativo Eccolo qui Premete il blocco punto interrogativo E apparirà la map 16 Cos'è la map 16? La map 16 sono i blocchi da usare nella grafica Seleziono il blocco con un solo quadratino acceso Vedete qua in alto a sinistra Che mi permette di selezionare i singoli tile 8x8 Scendo di una pagina Scendo di un'altra pagina E le incollo in questa pagina vuota Qua è tutta vuota Qua è tutta roba che possiamo creare noi Liberamente Spazio all'infinito quasi Quindi vado alla terza pagina E metto qua il nostro tile Disattivo la modalità 8x8 Che permette di modificare i singoli tile 8x8 Seleziono l'intero tile 16x16 E metto Act as 130 130 vuol dire Che è un blocco solido Questa è una cosa un po' poco chiara da imparare Come posso spiegarlo? Se voi andate qui Spieghiamolo così Se voi andate qua E mettete il mouse su un certo blocco Potete vedere L'id del blocco Per esempio Andate sul blocco di cemento E vi dice Direct map 16 Access tile 130 Questo vuol dire che l'id di questo blocco è 130 Quindi un blocco solido Su cui non si può passare Attraverso il quale non si può passare È il tile 130 Questo qua Il blocco sul quale si può camminare E si può passare da sotto È il tile 100 Il blocco nota È il tile 111 Poi c'è questo blocco molto usato Che è 25 È un blocco vuoto Aria Quindi Questo vuol dire che se io volessi fare In modo che puoi passare attraverso il blocco Devo mettere 25 Act as 25 Perché vuol dire Ti comporti come il blocco 25 Quindi il blocco 25 è questo qua Aria Vuota Libera Se qua io metto 25 È Aria Vuota Libera E puoi passarci attraverso Se metto 130 130 130 Come dicevo prima È il blocco solido Se invece metto 100 Che è quello che farò Si comporta come blocco Legge Diciamo Il blocco piattaforma Esatto Come dice Duraner Sto creando un blocco Un blocco Sto creando un blocco nuovo Non sto creando un blocco Salvo E ora posso metterlo qua Eccolo qui Sangue dappertutto E che è il nostro blocco con sangue C'è un tile bianco per qualche motivo Un attimino che ho sbagliato a mettere un tile Ok così Non ho capito bene come si fa A A ricaricare Va bene comunque Cambio e rientro Così ecco qua Ecco la grafica fatta Un broccolo Ferincesco dice Ti insegna il trucco delle ciabatte del ciarlatano Prendi una lattina vuota E mettila per terra orizzontalmente Mettici il piede sopra Ok Questa è una lattina come ciabatta Ok Allora Detto tutto questo Vi è annoiati con tutte queste spiegazioni Ma detto tutto questo Se ora apriamo il gioco Vedrete Che c'è l'audio doppio perché L'ho attivato prima Qua la paletta è sbagliata La cambieremo dopo Non importa Andiamo nel nostro livello Ed ecco qui Ecco le macchie di sangue Ecco i Toad che camminano Guardate la faccia del Toad Guardatelo Spero che si veda bene da voi Perché magari è un po' piccolo Ma questa è la faccia del Toad La testa del Toad morto Non è bellissimo? Qua a terra abbiamo il sangue Poi possiamo aggiungere altri tile Per farlo un pochino più grande Macchie più grandi di sangue Perché per ora sono tutti uguali Sembrano un po' ketchup Ma poi lo possiamo fare più bello Lo possiamo fare più grande Più piccolo Più bello Mi piace che poi Va in giro Senza la testa Guardatelo Possiamo anche lanciare la testa del Toad Che è esattamente quello che desideravo fare Guardate la testa che va Poi appare Yoshi Che dice il suo messaggio Con un pestone Mario spila la colonna vertebrale De Toad Come se fosse uno stantuffo Sì è bellissimo Mangio quel Toad Ah Un attimo Oh Ok Cambiando la palette di prima La lingua di Yoshi è diventata rosa Forse ci conviene cambiarlo In qualche modo Ma va bene così per ora Ora Tolgo un attimo la La musica qui di WarioWare Per farci davvero un'idea Dell'atmosfera dell'hack Rimettiamo l'audio dell'hack Ed è la musica di Doom Finalmente possiamo uccidere tutti i Toad In questo livello insanguinato Yeah Questo è il mio sogno Ho cambiato per sbaglio anche il fungo Poi anche il pesce smack Deve diventare un Toad Con la testa mozzata E questo prima o poi sarà pieno di Toad Anzi facciamo una cosa Prima di chiudere Perché per oggi magari Chiudiamo qua È già troppa roba per oggi Rimappa le fiamme in brandelli di Toad Giusto Facciamolo Proviamo una cosa Mettiamo un miliardo di Toad Perché la prima cosa che abbiamo fatto All'inizio dello stream Era espandere il limite di Toad Quindi mettiamo un miliardo di Toad Facciamo così dai Facciamo un miliardo di Toad Uno qui Uno qui Ah magari tipo uno qui Forse è meglio non metterne troppi qua all'inizio Non voglio che sia davvero una Kaizo Mettiamone tanti qui Pieno di Toad dai Questo è Paper Mario Sticker Star E abbiamo Mario si spoca con i Toad Dopo aver giocato a Paper Mario Sticker Star Ammazza lì tutti E il primo livello Eccoli Sai bene cosa devi fare Mario Il volume è basso Uno è caduto Un Toad è caduto Ecco qui Super Mario Sticker Star World Vedremo Poi decideremo il nome Guardate questa carneficina Lo adoro Lo sto già adorando Ok così c'è un po' di speed in più Più ci sta Perché non è comunque difficile Perché non Diciamo Sono solo Cuba Puoi saltarci sopra facilmente E le ammazzi tutti Poi prendi lo Yoshi Che dice Andiamo a uccidere tutti i Toad Canzone di Doom Però versione PC Doom per PlayStation 1 era meglio Non ci ho mai giocato Io ho giocato solo Sai a quale versione ho giocato di Doom? Ho giocato alla versione per Switch Per la prima volta Quella è stata la mia prima esperienza con Doom Doom 1 e 2 Ho comprato anche Doom 3 se non sbaglio Ma non ci ho mai giocato ancora Tony dice Sto leggendo la chat Prima di riprire il gioco è giusto alla parete del fungo e della lingua di Yoshi Sì Per fare quello però Probabilmente dovremo separare Allora Probabilmente quello sarà un po' complicato Dovremmo modificare proprio L'assembly Diciamo la programmazione Dello sprite del Koopa Cioè del Toad Per fargli usare una palette diversa Per farlo bisogna andare su Tools E avere lo Sprite Editor Che se non mi sbaglio si chiama Pixie? Sì Pixie Sprite Insertion Tool Questo permette di modificare gli sprite Ricordate una cosa? Quando si parla di sprite in Super Mario World Central O in generale in Super Mario World Non si tratta tanto della grafica in generale Con sprite solitamente si intendono Questi Le cose che si muovono I nemici I funghi Questi sono sprite I boss Quindi questo permetterà di modificare gli sprite Duraner dice no Questo serve solo per inserirli Non per modificarli Quindi cosa dovrei usare? Sprite Tool? 15 anni fa usavo Sprite Tool Tessera qua si chiama Voto 3,8 È del 2013 Qual è quello migliore? Henry dice Di recuperare versioni PS1 Ma non sono Un grandissimo fan di Doom Da essere diciamo così Completista Però Diciamo per il suo valore storico Dovrei dargli un'occhiata Steer 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 Tutto in maiuscolo Ecco qui Ecco qui Guardate Questo tool che si chiama Steer Permette di rimappare i tiles usati da tutti gli sprite Praticamente possiamo Praticamente possiamo Fare in modo che ciascun nemico usi una grafica diversa La cosa che ci interessa Guardate qui In questo momento si vede piccolo Ve lo zoom La cosa che interessa a noi è Qua L'opzione di cambiare la palette Quindi quello che farò Sapete che vi dico? Facciamolo subito dai Facciamolo Facciamolo Scarico così No però poi ci vorrà un pochino per inserirlo Va bene comunque Giusto per dargli un'occhiata no? Non lo inserisco ora perché ci metterei un pochino Dovrei scaricare però poi l'altro tool per inserire Cioè Pixie Credo Quindi prendo steer Steer.exe Non serve in teoria dici? Ok Open rom Apriamo la nostra rom Apriamo la nostra rom Hack.smc Applica automaticamente Ok Allora Dovrei prendere red cupa no? Eccolo qui E gli cambio la palette Quindi attualmente è la palette dodici Diamo un'occhiata a qual è la palette dodici Quindi ok Le palette qua sono in ordine da zero verso Fino a Quattordici Quindici Dall'alto verso il basso Quindi quella riga più in alto È zero Poi uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Appunto Il default Per il cupa È la palette dodici Diamo gli un'altra palette Sì dovrei cambiarla a tutti Che palette possiamo dargli che non viene usata da altro Quindici La quindici La quindici mi pare che non viene usata o da niente o quasi da niente Quindi dai facciamo quindici Con quindici non credo che sovrascriviamo robe importanti Mettiamo palette Quindici Poi vado qui Come si cambia Come si cambia Come faccio a cambiarla per questo spread in particolare Ed uno sopra Ed uno sopra Ok usare la quindici è safe Va bene Posso mettere spretti di altri giochi di Mario per GBA Tipo Mario vs Donkey Kong e Superstar Saga Sì Allora se non sono troppo grandi Sì facilmente Se sono più grandi di 16x16 O 16x32 Potrebbe essere un po' più complicato Dipende dalla grandezza Però generalmente sì Sono le varie parti Non ho capito bene però Perché qua appare palette 15 Ho cambiato 15 E ora appare 15 per tutto Ok no E Blue Koopa rimane sempre 11 Mentre Red Koopa adesso è 15 Giusto? Rimetti add 1 Beh qua è cambiato tutto in automatico Quando ho cambiato add 1 È cambiato anche l'altro Ok andiamo pure su Red Koopa Senza i gusci Mettiamolo 15 pure qui Va bene Ok Ho spostato la parte sopra della testa Non ho capito Ho spostato la parte sopra della testa Ah ok L'avevo spostata E poi l'ho rimessa Va bene L'ho sistemato Ok Tutto a posto L'ho sistemato Questo tool non l'ho mai usato prima Quindi cercate di capire che sono Un po' un nabbo anche in alcune cose Diciamo anche in alcuni tool magari più recenti Ho fatto un errore Ho fatto un errore Credo di aver salvato Ed aver sovrascritto quello che ho appena fatto Prendo di nuovo il Koopa Rosso No va bene Dice 15 Ok dovrebbe essere a posto Ok salvo Ora se io apro qui No non è cambiato per ora Ah non i mostri di Lunar Magic Va bene Quindi per vedere se ha funzionato Scusatemi se sto facendo roba un po' tecnica e noiosa Ma per vedere se ha funzionato Se ora io apro Esatto Ora hanno l'altra palette Guardateli Guardateli Quindi Copio questa palette E la metto Al numero 15 No qui Qui 15 Mentre qua rimetto i colori normali Abbiamo quasi finito vero? Così Quindi ora vedrete che se non sbaglio è tutto funzionante Andiamo avanti veloce Darken Toad Ecco qua Ora i Toad funzionano Sono morto? Sono un po' troppi Ecco qua Ora i Toad funzionano E i funghi pure E la lingua di Yoshi pure Andiamo a prendere Yoshi per testare Oh è cambiato qualcos'altro ora Ma eccolo qui Ora funziona Visto? Abbiamo rotto un tile da qualche parte Tipo Quando prendi una moneta Quando fai un Toad punti Appare un tile glitchato Probabilmente l'abbiamo sovrascritto con i Toad Con un pezzo di Toad Va bene comunque Ci siamo Poi i dettagli ulteriormente Li faremo dopo Li sistemeremo dopo Quindi direi che abbiamo una base Che ne dita per il primo stream di Lunar Magic Direi che possiamo finire qui per oggi Rivediamolo dall'inizio Ora se pensate che ci vuole tanto tempo È vero ci vuole tanto tempo a volte Ma ci vuole tanto tempo specialmente per iniziare Una volta che avete iniziato E che avete tutta la grafica che volete La musica che volete Diventa tutto molto più spedito Per esempio Ho trascorso tutto questo tempo a mettere i Toad A mettere la musica Ma Ora che ho messo i Toad Posso semplicemente creare il livello Cioè fare proprio la parte di level design banalmente Quindi mettermi qua e fare altre piattaforme Mettere altri Toad e così via Prossimo stream magari lo faremo lunedì prossimo Perché in questi giorni avremo un po' di cose importanti da fare Quindi magari avremo una settimana di distanza E nel frattempo magari farò un pochino di progressi da solo E poi vi farò vedere un pochino come sta avvenendo Piccola preview Piccola anteprima Vi faccio vedere qualcosa che si potrebbe fare Per esempio Guardiamo la grafica più popolare Guardiamo la grafica più popolare mai usata Apriamo tutti i più popolari Mario e Luigi Ora vi dico quello che faremo in queste settimane Apro un po' di cose a caso Mario e Luigi Green Hill Zone Quindi qua abbiamo Semplicemente il font di Earthworld Gym Non so perché ha così tanti download Che cacchio Scusate 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 perché questo font ha 116.000 download È la cosa più scaricata in assoluto con 116.000 Il secondo ha solo 5.000 Perché Comunque Andando avanti poi c'è questa grafica Di Super Mario World Redrawn Questa è molto popolare È praticamente tutto il tileset però ridisegnato A qualcuno piace un sacco il font di Earthworld Gym È una sola persona Che lo aggiorna tutti i giorni Che lo clicca tutti i giorni C'è stato un periodo in cui questo era molto popolare Lo ho usata persino io una volta In una hack che ho fatto Ah Andry dice Qualsiasi cosa facciamo Gli va bene perché siamo un bel team Grazie per il complimento Poi c'è il font di Undertale Bene Volete mettere Sans nel gioco? Potete farlo Potete mettere anche il Wingdings Potete mettere Quest'altra grafica Guardate qui Stile Super Mario Bros 3 Potremmo mettere Sonic come personaggio giocabile Dovremmo farlo Una hack con Sonic giocabile Poi abbiamo Ah va bene Terreno Grassland di Super Mario Bros 1 Versione All Stars Wario e Luigi come personaggi giocabili Sonic La nave di Mario Maker Qua hanno importato la grafica di Mario Maker Molto bello Poi abbiamo Un edit di Mario e Luigi Abbiamo l'intera cacchio di Green Hill Zone Volete vedere la Green Hill Zone? In Super Mario World? Si può fare Possiamo farlo L'hanno fatta una di recente Ma è una kaizo allucinante Sì molti Molte hack popolari sono kaizo Io personalmente non sono Così bravo E quindi non Non ho neanche molta pazienza Quindi non mi metto molto a fare Le kaizo Comunque questa è una piccola preview Di tutto quello che si può trovare qui Todd Cos'è Todd? Questo è per avere Todd giocabile No grazie No grazie Tranne se vogliamo fare tipo un Todd Che uccide altri Todd Ah New Super Mario Bros. Wii Qua c'è la grafica stile New Super Mario Bros. Wii Quindi insomma c'è tantissima roba Prima vi ho fatto vedere la musica Poi i blocchi personalizzati che si possono mettere Per esempio I blocchi bomba di Kirby I blocchi personalizzati sono blocchi che hanno funzionalità personalizzate Quindi per esempio questo è basato sul blocco di Kirby Poi vediamo Sprite per esempio I più scaricati Tuta laser Non ci sono screenshot di esempio? No Ok Spiny Boss Mouser Kirby Boss Ok questo è un boss Come si chiama? Un cupistrice in italiano Qua si può mettere Mouser di Super Mario Bros. 2 Qua si può mettere Kirby come boss Insomma C'è tantissimo di roba Sì A volte ti serve un pochino di esperienza di assembly Ma in realtà se non vuoi modificarli Non tantissimo Se vuoi semplicemente Importarli da Super Mario World Raramente ti serve esperienza di assembly Ma comunque Diciamo ci vuole un pochino di smanettamento Un pochino di A volte andare a cercare di capire come funziona qualcosa Ma comunque per ora questo è tutto Questo era solo diciamo un'anteprima di quello che Potremmo vedere in futuro E quindi questo è Il primo stream di Lunar Magic Potrei dirvi Un attimino anche come si mettono le patch se volete Se mi interessa vi spiego come si applicano le patch Per giocare i giochi Bye bye Red comunque Undyne di Secret of Mana come boss Da non confondere con quello di Di Undertale Comunque per quanto riguarda il piano della settimana Questa settimana giocheremo domani a Sonic Domani a Sonic CD E forse faremo Sonic due giorni di fila Martedì e mercoledì Perché poi giovedì e venerdì arriverà una cosa un po' speciale Per giovedì e venerdì abbiamo in piano un evento speciale Anzi vi do l'anteprima ora Giovedì e venerdì faremo una collaborazione con altri streamer Avete presente tutti gli streamer che abbiamo redato? Che giocano a Mario Strikers anche loro? Collaboriamo con tutti in un colpo Quindi giovedì e venerdì saremo su Mario Strikers con loro Così potremo mostrare a tutto il mondo quanto faccio schifo Comunque domani Sonic Per domani Sonic Ok Dreamers l'hanno già detto Che venerdì saremo con loro Allora ci saranno due giovedì e due venerdì Quindi due ospiti un giorno e due un altro Ora appena chiudo qua vado subito a fare il post Così vi dico tutto il programma Comunque Niente off topic Rimanendo un attimino su Lunar Magic Volevo fare tipo un brevissimo tutorial Per come si applicano le patch Già che ci siamo Facciamolo dai Facciamolo velocemente Chiudo tutte le finestre che ho perché sono tante Eccoci qua Mi sono preparato un attimino la grafica E anzi metto pure un po' di musica Mi metto questa musica qui Alla buon'ora per la musica A volte Mi rendo conto che non è Uno si annoia ad ascoltarmi senza musica Quindi è meglio se metto la musica Allora Come si gioca una ROM HAC di Super Mario World Dovrei dirlo un po' meglio Come si gioca una ROM HAC di Super Mario World Cioè come applicare le patch .bps e .ips L'avete chiesto un bel po' di volte Finalmente faccio un breve tutorial È piuttosto semplice Quindi apriamo Super Mario World Centra Questa è la vostra risorsa numero uno Per scaricare le hack Andate qua a destra nel menu Super Mario World Hacks E qua trovate tutte le hack del mondo Per esempio Prendiamo una hack che abbiamo giocato di recente Sul nostro canale La Plumber for All Seasons Andate qua Qua potete vedere tutti gli screenshot Quanto è bella È davvero bella Ve la consiglio Per esempio Download E avrete qua lo zip Con un file .bps Il file .bps è la patch È quello che interessa a voi Quindi andiamo un attimino Ignorate questo perché stavo facendo un tutorial Di Lunar Magic ma ignoratelo Mettete la patch dove vi pare Mettetela per esempio qua nel desktop Ora ci sono due modi per farlo Per applicare la patch Un modo è andare su Online Tools E andare qua su BPS Patcher Flips Questo lo troverete anche nella descrizione Quando vedrete su YouTube ci sarà il link nella descrizione È estremamente semplice Andate su Base Rom E selezionate una rom originale di Super Mario World americano Assicuratevi che sia americano Super Mario World solitamente con la scritta U U E cliccate Questa è la rom di base È la patch È quello che abbiamo appena scaricato Plumber for All Seasons.bps A volte sono BPS A volte sono IPS Uguale Apply Ed ecco qui Abbiamo la Plumber for All Seasons Quindi lo trascino qua nello schermo Nel desktop Ce l'avevo già Quindi un attimino che lo trascino qui in vista Eccolo qui La Plumber for All Seasons La apro con un emulatore a mia scelta Per esempio a Business Mi dà un errore Non importa Ed eccola qui Eccola qui Ed è una hack bellissima che vi consiglio di provare C'è un altro metodo Quello che ho appena fatto È un tool online Se invece del tool online preferite avere un tool offline Cioè un tool che scaricate Andate su Tools E andate qua su Floating Eaps Flips È esattamente la stessa cosa Download Ehm Trascinatelo un po' dove vi pare Flips.exe È la stessa cosa Se fate Apply Patch Vi chiede di scegliere prima la patch da usare Quindi appunto Plumber for All Seasons E poi quale file patchare In questo caso sempre Super Mario World di base E poi la destinazione Ehm Esempio Faccia applicata Ed eccola qui Una copia esatta di quella di prima Quindi è lo stesso esatto risultato Ma con due modi di farla Eccola qui Ora Qual è la differenza? Questo qua vi conviene Per due motivi Prima di tutto Ce l'avete offline E quindi potete usarlo anche senza internet Potete andare su Settings E a fare Assign File Types Che vi permette di assegnare il file BPS a questo programma Così cliccate col doppio clic Sul BPS E ve lo apre automaticamente Vi chiede solo di scegliere L'output Inoltre potete fare Create Patch Se voi state creando una hack Potete fare Create Patch Per creare la vostra patch Per distribuirla poi a tutto il mondo Quindi questo è tutto Il primo metodo va benissimo Il primo metodo è sufficiente Credo Quasi per tutti Ma se volete di più Potete usare il secondo Quindi Questo è tutto Direi che per oggi abbiamo finito Sia col tutorial di Lunar Magic Col tutorial delle patch Poi questo lo pubblicherò su YouTube Farò due video Comunque sì Ci sarà il video intero Che sarà tutto lo stream di oggi E poi ci sarà un video di 5 minuti Che sarà semplicemente il tutorial Di questi ultimi 5 minuti Su come si applica una patch Grazie ATC Mi fa piacere che lo trovi interessante Mi piace molto Il mondo delle hack di Mario World Mi piacerebbe se ci fossero più italiani Che fanno hack In passato le ho fatte Però da un bel po' che non le faccio Magari in futuro ne farò qualcun'altra Anzi in realtà ne ho una da finire Quindi prima o poi magari muoverò il sedere E la finirò Ma comunque Questo è tutto per la prima live di Lunar Magic Ci torneremo probabilmente tra una settimana E andremo avanti Vi farò vedere qualche progresso Che farò fuori dallo stream E poi decideremo insieme Cosa raggiungere Giochi e hack guys ogni tanto Quelle sono un po' troppo per me Però ci sono anche molte hack Belle di difficoltà normale Solitamente Prediligo quelle Comunque sì Stavo facendo una hack con Duruner E Red Prima o poi la finiremo Vero? Vero che la finiremo Storm Dovresti provare a inserire Roboteam Ok la inserisco ora Fatto Inserita Grazie per aver guardato Ci vediamo domani con Sonic E probabilmente lunedì con Lunar Magic Andiamo Allora Allora